ciao a tutti bentornati su spazio indaco benvenuti ai nuovi benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 allora carissimi settembre un mese che inizia col botto inizia col botto perché il primo plutone esce dal segno dell'acquario e torna per l'ultima volta nel segno del capricorno poi tornerà nel segno del capricorno fra 248 anni quindi noi non lo vedremo più è l'ultima come dire l'ultima battaglia con il potere con il concetto di potere con l'abuso di potere con una ripulitura anche dopo dei pianeti come dire dei dei poteri forti dei poteri occulti che governano il mondo questa cosa vale sia in macro che in micro quindi sia a livello mondiale che nelle nostre vite quindi ci stiamo sganciando stiamo combattendo un'ultima battaglia energetica da chi dal 2008 ad oggi ha provato ad assoggettarci controllarci depotenziarci imporre il proprio proprio volere su di noi quest'ultima battaglia chiamiamola così a livello che si svolge a livello di consapevolezza quindi a livello interiore a livello energetico ma che poi inevitabilmente come tutte le cose alchimicamente avrà un riflesso all'esterno va dal primo settembre al 19 novembre 20 novembre teniamoci con questi pianeti lenti ogni programma e ogni programma di efemeridi a volte sfalsa di qualche ora quindi dal primo settembre al 20 novembre plutone in capricorno e in questa fase come dire di potente ed energetica retrogradazione perché come se dovessimo fare un po il punto della situazione di quello che è stato no ti di quello che è stato dall'ora fino fino ad oggi con l'acme con un'analisi della parte centrale dell'acme di questo lavoro di energie che va dal 2018 al 2021 transito di saturno in capricorno che può aver inciso moltissimo in questo percorso di consapevolezza portato da plutone in capricorno che è iniziato nel 2008 e che finisce quest'anno quindi in questo cielo di retrogradazione il primo settembre anche urano il pianeta degli imprevisti ma anche il pianeta della trasformazione della materia la materia della realtà intorno a noi visto che nel segno del toro soprattutto va in retrogradazione ci rimarrà mesi mesi e mesi fino alla fine dell'anno i pianeti in retrogradazione visto che mercurio ci siamo andati un po a gambe all'aria non devono essere visti in una maniera assolutamente negativa perché con il cielo innanzitutto perché danno l'occasione di sistemare un sacco di cose e obiettivamente i problemi che noi abbiamo nella realtà contingente derivano da passi falsi errori di valutazione o cose lasciato in sospeso dal passato quindi una grande occasione di risistemare questi sono dei momenti di break che più anche più volte durante l'anno da quando siamo nati non è che da quando ci sono i social se ne parla da quando siamo nati l'universo ci offre la possibilità di fare dei break dei punti della situazione del brainstorming fra noi e i pianeti l'universo e la vita per sistemare per mettere in ordine e per fare pulizia e per mettere cose nuove quindi urano retrogrado poi abbiamo una luna nuova in vergine il 3 settembre una luna in vergine opposta a saturno vedete che all'interno di questo mese la maggior parte dei dei pianeti si dispone nell'asse terra acqua c'è una dominanza e questo siccome sono due elementi che anche quando si oppongono grazie a tutto un giro di di pianeti che c'è nel cielo si completano voi ricordatevi che che resta comunque una delle combinazioni migliori perché l'acqua trova stabilità nella terra perché la terra perde aridità e invece si nutre si ammorbidisce con l'acqua quindi è un mese è proprio un settembre vero cioè proprio un mese di ripartenza è proprio un mese che ci consente di mettere ordine questa stessa luna nuova in vergine proprio per chi vuole abbracciare perché non è un'imposizione c'è anche chi è in vacanza e che magari ha fatto già tutto e non deve mettere a posto niente però questa luna in vergine questi pianeti in vergine consentono di mettere ordine formano dei trigoni con urano dei trigoni con plutone e quindi ci ci consentono di fare ordine di mettere le cose al posto giusto di mettere le etichette al posto giusto quindi è una è una santa luna luna nuova adesso la analizzeremo se riesco in sovraimpressione vi metto anche il tema natale della luna nuova del 3 settembre perché è molto interessante anche marte viene il nostro aiuto viene proprio in aiuto del cielo perché il 4 settembre lascia il segno dei gemelli che ci ha resi volubili indecisi contraddittori per un mese e mezzo entra marte nel segno del cancro forma ottimi aspetti sia con i pianeti in segno d'acqua che con i pianeti in segno di terra si andrà a opporre a plutone nel loro ultimo duello ma saranno aiutati da un coro di pianeti che aiuteranno questi due big della guerra a comunicare e a trovare soluzioni equilibrate un po per tutti si spera anche a livello mondiale quindi il 4 marte entra nel segno del cancro ed inaugura un transito straordinario di ben sei mesi con un piccolo con una piccola come dire eccezione nel segno del leone ma poi fino ad aprile 2025 resterà nel segno del cancro il transito eccezionale per la durata è un buon transito comunque in generale perché formerà di trigoni con nettuno con saturno e un sestile con urano quindi sacco di cose si si muoveranno quindi va bene anche questo marte poi abbiamo il 9 settembre mercurio lascia il segno del leone ed entra nel segno della vergine va nel suo domicilio e quindi la lucidità la capacità di analisi la concretezza la sveltezza la capacità di mettere le cose a posto e anche arrivano a noi l'energia si pervade di questo tipo di pensiero e anche vista l'opposizione che avrà questo mercurio con saturno ma sarà trigonaurano la resa cioè la fine delle illusioni ci viene concessa un'energia un pensiero una lucidità una maturità una concretezza una capacità di analisi che ci permettono ci consentono di lasciare andare qualche illusione qualche mania di protagonismo ri vi ricordo che le illusioni sono tutte legate al mentale e il mentale è legato al terzo chakra all'ego alla dimensione dell'ego quindi noi ci illudiamo perché il nostro terzo chakra il nostro bisogno di potere ha bisogno di nutrirsi di quella convinzione probabilmente in questo mese con questo transito di mercurio che va dal 9 settembre fino al 26 settembre riusciremo a lasciare andare qualche illusione e a vedere un po di più ovviamente tutto non è possibile un po di più la realtà per quello che è e per quello che è stata e soprattutto forse riusciamo a vedere qualche parte di noi che magari prima non volevamo vedere perché ricordatevi che la vita è sempre uno specchio se io cerco illusioni fuori e se io fuori creo delle illusioni è perché dentro non sono onesta con me stessa più una persona un buon rapporto con se stessa più una persona è onesta con le parti di sé che non ama quindi le riesce a vedere le riesce anche ad accettare più fuori la vita non ha più non mente più quindi più sia si fa chiarezza interiore più all'esterno si comprenderà quando una persona mente a se stessa quando una persona ti sta mentendo quando una situazione è poco chiara quando ci sono dei movimenti ambigui quando non c'è trippa per gatti quindi ricordatevi che è un gioco di reciprocità più fuori incontriamo persone che ci mentono più in qualche modo noi mentiamo a noi stessi più siamo onesti con noi stessi più la vita si schiarisce e quindi anche le decisioni diventano diverse hanno un altro sapore e anche un'altra portano a risultati diversi non effimeri come si fa ad essere onesti con se stessi quando uno non può fare un percorso non ha tempo non può permettersi un cammino di investire guardando innanzitutto partendo dalla realtà che abbiamo creato perché la realtà è nostra ci piace dire che la colpa è degli altri la colpa di mia moglie di mio marito e del mio ex e dell'amica delle elementari che mi ha strappato che mi ha letto il diario io non mi fido più di nessuno insomma siamo bravissimi a dare la colpa agli altri ma se accettassimo l'idea che ogni persona che incontriamo ci fa vedere delle parti di noi terribile e se accettassimo che la realtà che abbiamo creato che abbiamo intorno l'abbiamo creata noi più che subita e che quando accettiamo di subire qualcosa abbiamo sempre un vantaggio lo so che sto andando molto nel profondo e che non tutti sono pronti se non vi risuona e vi urta troppo lasciate andare passate avanti senza che vi angustiate ulteriormente quando noi accettiamo delle situazioni che teoricamente non dovremmo accettare e perché c'è un vantaggio secondario quindi c'è la copertura la comodità di qualche bisogno secondario quindi andare a guardare le ferite interiori e soprattutto andare a guardare con onestà le nostre scelte e le nostre azioni perché le azioni le compiamo noi a meno che non ci puntino una pistola alla tempia è un buon modo per capire chi siamo veramente ripeto se queste cose non vi risuonano perché siete a digiuno perché non siete pronti ad accettare la realtà non avete la forza di prendervi questa responsabilità semplicemente non vi angustiate passate oltre perché ognuno deve non sprecate il vostro tempo in canali che non vi rispecchiano che vi creano troppa frizione che non risuonano non sprecate il vostro tempo perché c'è un tempo per tutto la vita è preziosa il tempo è prezioso e accanirvi su un canale su un personaggio su qualcuno su una filosofia che non vi porta risultati è solo state solo sprecando male il tempo che l'universo vi ha dato il tempo che avete in questa vita che come l'energia purtroppo non è illimitato quindi io a volte leggo dei commenti sul canale tipo no no io voglio seguire per vedere dove va a finire state sprecando il vostro tempo perché io continuerò ad andare a finire dove per la mia preparazione per il mio punto di vista per la mia evoluzione o non evoluzione della persona come dire divulgo e investo e voi se non vi trovate invece di sprecare tempo a puntare il dito su una persona che o ci siete o non ci siete non continuerà perché non vi conosce cioè non ha un confronto con voi parla con una persona ma si dimentica il giorno dopo non sa più con chi ha parlato che cosa ha letto che investite il vostro tempo dove trovate un vantaggio dove per questa fase della vostra vita trovate giovamento non sprecate tempo dietro chi non capite quando parla non non vi dà quello di cui avete bisogno questo con questo cielo così pragmatico e così teso al alla messa in ordine mi permetto di di darvi questo questo suggerimento e quando aspettate siete il no ma io ho letto anche messaggi tipo io aspetto finalmente che dia onore a questo segno a questo ascendente a questa luna è una bella ferita da abbandono e da rifiuto bella grossa che mi fa sprecare del tempo in attesa che qualcuno vi dia cose che potete darvi solo voi perché non siamo tutti non siamo tutti burattini non siamo tutti uguali si parla si fanno delle previsioni generiche per un segno non in base all'immaginazione ma in base a quelle caratteristiche e alle simbologie di quel segno quindi se a voi non piace quel tipo di interpretazione non potete entrare in competizione con l'astrologo col col filosofo di turno quel tipo di turno che prima o poi vi darà un contentino perché quel contentino non vi porta a niente e invece quell'attesa strenua a nasconde un bambino che era in attesa che i genitori colmassero la ferita del rifiuto e dell'abbandono quindi leggere il libro numero due sulle cinque ferite emotive come correggerlo credo che sia il dono più grande che possiate farvi e potete investire il vostro tempo leggendo quel libro invece che aspettando che una parla bene di un segno perché in realtà si parla sempre bene dei segni ma quando ci sono transiti sfidanti ed esce la parte negativa del segno un aiuto concreto a chi ha orecchie per intendere lo dai se fai vedere gli errori in cui quella persona tende ad incappare e magari non li vede non è un voler pensare che una persona vada a simpatie per un segno zodiacale senza sapere il tema natale di quella persona senza sapere il percorso che ha fatto quella persona io non non provo simpatie e antipatie ed emozioni a pelle da quel dì perché quando fai un percorso di crescita tosto e hai un'età sufficiente perché quel quel percorso ogni anno diventi a questo un numero di anni ancora più grande qua parliamo di 15 20 anni di percorso sai che la tua macchina biologica non ha più bisogno di di corrispondi avere delle rispondenze con l'esterno non ci addentriamo in in discorsi troppo troppo complicati è un aiuto è un aiuto soprattutto in tempi di transiti sfidanti che fanno uscire il peggio di noi mostrare i lati deboli di un segno è un aiuto di solito chi ci vuole bene ci fa ci insegna a correggere i nostri errori è un aiuto una forma d'amore di solito chi non ci vuole bene ci dice sì a tutto ci prende in giro ci fa sentire unici speciali e giusti anche quando stiamo combinando ci stiamo danneggiando ci stiamo sabotando e ci stiamo un grande e ci stiamo combinando qualche guaio qualche ennesimo guaio quindi ricordate che il medico pietoso fece la ferita verminosa e io da questo punto di vista sono un po da ospedale da campo nel senso che andrei giù dura perché trovo che sia più più utile anche se all'inizio da fastidio ma quello è leggo non siete neanche voi e leggo e non ci addentriamo in la fase psicologica data dei pianeti in vergine è conclusa torniamo a noi ci sarà un bellissimo mercurio che per nella misura in cui siamo pronti ci aiuterà a liberarci da qualche bella illusione di quelle di serie a che ci hanno fregato abbastanza poi bene il pianeta dell'amore è in bilancia nel solo quindi abbiamo mercurio nel suo domicilio dal 9 dal 9 settembre venere che è già da fine agosto dal 30 agosto nel suo domicilio che la bilancia è una bellissima venere di aria elegante armoniosa che porta pace in amore distensione nei rapporti e anche soluzioni nelle questioni di salute perché finalmente questa venere in bilancia trova il trigono di giove stiamo parlando di piccola fortuna venere e di grande fortuna giove che finalmente trigonano e quindi possono essere si lasciano liberi di esprimere le proprie simbologie e addirittura si uniscono in un'alchimia positiva per tutto il cielo soprattutto per i segni d'acqua e i segni di fuoco ma proprio dispensano una leggerezza un'armonia di pensiero di amore di forme che non si incontrava da un bel po perché se non sbaglio ho fatto un post su instagram venere in bilancia non formava un sestile un trigono con un giove mi sembra dal 2021 quindi quando ci sono le quadrature significa che negli anni successivi perché venere è tornata più volte nel segno della bilancia ha trovato qualche ostacolo qualche opposizione innanzitutto da giove che è un suo corrispettivo perché ripeto sono piccola e grande fortuna quindi quando trova la quadratura di giove significa che quelle qualità della venere in bilancia l'eleganza l'armonia l'arte trovano un contrasto che quindi non possono esprimersi esprimersi appieno quindi questo nonostante le retrogradazioni è un momento dove possiamo cogliere anche l'energia della distensione dell'armonia alcune della guarigione nel fisico nel corpo nei rapporti nella cella è la bellezza che si permette di permeare le nostre vite e quindi di alzare inevitabilmente l'energia e le vibrazioni e questo fa un gran bene perché crea una una cortina è come se all'interno di una casa dove ci sono dei lavori ci fosse una stanza dei piaceri come la chiamo io la stanza della rigenerazione dove si va per per ricaricarsi e per vedere anche le cose finalmente da un punto di vista diverso perché i pianeti in segno d'aria devono proprio hanno proprio la funzione di alleggerire sviluppare fare evolvere e pulire i pensieri la mente l'aria è legata alla mente al pensiero quindi venere sta benissimo fino al 23 poi entrerà nel segno dello scorpione e formerà un bel trigono con marte quindi da lì la passione si si libererà felice nelle nostre vite il 18 abbiamo una bella luna in pesci congiunta nettuno e questa cosa a parte una nostra personale esaltazione o scoperta di nuovi mondi all'interno di noi o di nuove passioni di nuovi aneliti più che proprio la passione come dire fisica proprio di passioni intellettuali a livello mondiale una luna piena congiunta nettuno mi sa parte di questioni legate alle maree alla sanità ma tipo di cose che scoppiano di non uno scoppio a livello marziano di cose che diventano di dominio pubblico di cose che si ingigantiscono talmente tanto che poi determinano un cambiamento e sono cose a livello di mare di traffico di gli sbarchi di tutte le questioni che riguardano gli oceani quindi da dalla linea di navigazione agli sbarchi clandestini può esserci qualche fenomeno mondiale c'è qualche fenomeno nel mondo legato a qualche mareggiata può esserci uno tsunami può esserci qualche fenomeno insomma terra sulla crosta sulla faccia sulla faccia della terra proprio a livello geofisico insomma impattante determinante potrebbe esserci qualcosa che riguarda la sanità potrebbe esserci potrebbe verificarsi in questo corridoio energetico che si inaugura il 18 settembre potrebbe esserci qualcosa che riguarda internet la rete e anche riguardo alle alle popolazioni quindi in qualche modo potrebbero venire fuori dei conflitti delle turbolenze ricordate che nonostante il segno dei pesci abbia una visione come dire una funzione altamente spirituale di riconnessione con come dire con le entità celesti con con il mondo celeste perché il segno decisamente più spirituale dello zodiaco deve prima come dire può sconfiggere portare a galla i mostri marini nettuno c'è il tridente quindi punge i conflitti interiori quindi interiori fra popoli fra situazioni insomma ha sempre un'energia particolare insomma sempre un'energia particolare anche potrebbero esserci a è una luna molto venusiana questa questa luna piena in pesci perché perché il segno dei pesci esaltazioni di venere quindi potrebbe venire fuori qualcosa legato ai piaceri quindi agli eccessi qualcosa da regolamentare tant'è vero che poi arriverà saturno a mettere in regola qualcosa legato all'estetica qualche eccesso legato all'estetica all'arte è sicuramente una luna emotiva ed eccessiva eccessiva sia a livello di piaceri e di vanità e anche a livello di coinvolgimento di massi umane quindi ci sarà verrà fuori qualcosa che che probabilmente deve essere deve essere corretto prepariamoci dunque a rimboccarci le maniche e a mettere in così a a mettere ordine a mettere ordine e a non lasciare troppe cose in sospeso altrimenti poi quando arriva saturno ci tocca mettere a posto una caterva di situazioni andiamo a vedere segno per segno dimenticavo che il 22 ottobre 22 settembre il sole lascia il segno della vergine ed entra nel segno della bilancia il 23 settembre venere entra nel segno dello scorpione ma lo abbiamo già accennato formerà un trigono con marte quindi ci saranno tre settimane di fugaci e intense passioni e il 26 settembre mercurio entra nel segno della bilancia e anch'esso inaugura un periodo molto molto bello a livello proprio di sentimenti di arte di di leggerezza di di eleganza di armonia di pace nei pensieri perché questo mercurio anche se non è in in trono formerà un bel trigono con giove e quindi ci saranno delle prese di coscienza la diffusione di pensieri nobili eleganti ci sarà qualche avvenimento molto interessante a livello artistico musicale letterario è un bellissimo momento per l'arte e per alzare ripeto le nostre vibrazioni perché parte tutto dal dal pensiero quindi è un mese interessante che ci fa mettere in ordine cose ma ci fa anche come dire elevare il pensiero a qualcosa di più di più nobile e allora vediamo che cosa succede segno per segno questo mese di settembre 2024 cari amici dell'ariete cari amici con l'ascendente ariete con la luna in ariete benvenuti ad un mese che porterà l'energia ad un piano completamente diverso da quello che avete vissuto in questa parte questa prima parte in questa gran parte del 2024 marte il vostro governatore infatti il 4 settembre entra nel segno del cancro ed è e compie un transito straordinario straordinario perdurata resterà sei mesi a parte una piccola capatina a fine a fine anno inizio 2025 fa impressione dirlo in leone quindi a parte una fase di respiro che avrete intorno alle vacanze di natale perché insomma il segno del leone è un vostro amico vi piace giocare con il fuoco perché voi siete fuoco fino a da per tutto il per la maggior parte del tempo a partire da adesso fino al 20 aprile del 2025 avrete marte nel settore della famiglia marte in cancro e questo quindi ci sarà una portata d'acqua emotiva che spegnerà un po i vostri ardori no voi siete sempre ci vorrà molta pazienza probabilmente la pazienza ve la darà il transito stesso perché appunto marte con la sua portata d'acqua che non è non è un marte in pesci però è una discreta portata d'acqua spegne un po il vostro il vostro fuoco e questo che cosa significa che voi siete protagonisti della scena voi siete impulsivi siete dominanti tendete a mostrare la via no perché siete proprio un segno pioniere che ha proprio l'energia per essere pioniere siete dei leader e quindi tendenzialmente poi si tende sempre un po a dettare legge a volte anche un po di più proprio perché avendo una natura di fuoco una natura impulsiva poi entrate nell'abitudine di dettare le leggi di dettare gli equilibri di mostrare la via di dominare di dare ordini e come dire quindi avete sempre una leadership ora con un marte nel settore della famiglia significa che le per fino ad aprile fino alla fine di aprile 2025 l'energia è concentrata a mettere a posto a sistemare a dedicare o a creare a seconda dell'età che avete una famiglia una nuova famiglia un nuovo nido quindi questa cosa si può declinare cambio casa la ristrutturo la la sistemo la demolisco la costruisco mi compro un terreno vado a vivere in francia torno a casa tutto quello che è legato conosco una persona e metto su famiglia sono incinta divento papà è tutto legato a quella sfera finalmente metto ordine nella mia famiglia di origine mi metto a sistemare il rapporto con i miei fratelli è tutta una fase impegnativa per voi perché è come se togliete un po di energia al vostro personaggio quindi sarete magari meno alla ribalta perché sarete impegnati a costruire nuovi equilibri però è un transito molto costruttivo è un transito molto costruttivo che non si verificava da 30 anni perché perché marte in cancro for per sei mesi formerà un trigono con saturno in pesci quindi questo tipo di alchimia non si verifica dai dalla metà degli anni 90 e quindi avrete modo di con questa energia con questo marte che potrebbe rappresentare anche proprio una persona specifica o delle persone che vi aiutano ma anche se ristrutturate casa o la costruite l'impresa edile no energia che vi aiuta insomma quindi vedete la a seconda del declinate la no declinate questa questa interpretazione questa lettura a seconda di quello che andate a fare se io faccio un percorso di psicoterapia o faccio un percorso di crescita personale quel marte sarà la persona che mi aiuta oltre all'energia che io impiego per sanare per esempio le mie ferite emotive visto che marte in cancro è anche molto legato oltre che ai figli proprio all'infanzia la dimensione dell'infanzia e alla sfera emotiva quindi c'è questo trigono con marte e che cosa significa che se vi impegnate perché se non farete niente ci saranno soltanto tumulti probabilmente no perché se noi non ci impegniamo se noi non facciamo un minimo di lavoro visto che la vita è la nostra le cose non si sistemano quindi di solito bisogna collaborare con l'universo e con i transiti che marca che manda ergo se io marte per sei mesi in quarta casa significa che l'ambiente domestico o nelle pareti o nelle mura o nella dimora o nel posto dove abito o nelle dinamiche familiari mi si fa turbolento perché marte il dio dell'azione della guerra della lotta però se mi fa un trigono con saturno il problema che si solleva che sia idraulico che sia relazionale il problema che mi si solleva con il mio impegno e con la mia dedizione perché il problema si è sollevato a me quindi vuol dire che qualcosa mi suggerisce che sia mio con il trigono di saturno io con disciplina e costanza non una tantum con disciplina e costanza tutti i giorni tutte le settimane io lo risolvo e che quindi a maggio 2025 quando questo marte avrà finito di lavorare con me e con questo saturno che anche le mie memorie emotive il karma psichico familiare che è giunto anche a me e che quindi se la vogliamo leggere nostro genealogia richiede anche una presa di coscienza del passato mio e delle persone che formano la mia famiglia mio ariete mio ascendente ariete mio luna in ariete e lo sciolgo nella misura in cui io posso in questa vita sciogliere un karma familiare di non si sa quante generazioni no ma ognuno di noi è venuto per fare un piccolo tassello no per mettere ordine al proprio karma familiare col piccolo tassello di un'anima e se riusciamo ad assolvere a quello che ci compete la vita inevitabilmente migliora quindi se con costanza si ci si impegna a risolvere come dire ciò che si viene a creare a palesare voi troverete un grande giovamento e una grande risoluzione di quell'inquietudine interiore che ormai da un paio d'anni è diventata importante se non in alcuni casi insostenibili insostenibile quindi il vostro governatore vi dice che vi dovete occupare delle radici della dimora della famiglia dei figli di di creare qualcosa di di diverso in questo gioco i prossimi due mesi ovviamente ne riparleremo anche in ottobre neanche in novembre fa parte di questo gioco visto che casualmente marte entra in cancro e plutone torna in capricorno diciamo la dinamica la la dinamica dei giochi di potere perché plutone in capricorno indica quanto ci facciamo abusare dal potere degli altri ma quanto anche noi poi di fatto abusiamo di questo potere su qualcun altro più debole di noi e riuscire a comprendere in che misura noi stessi a volte siamo carnefici o proprio nella misura in cui poi incontriamo i nostri carnefici aiuterà probabilmente a non a risolvere a risolvere le questioni domestiche immobiliari che si stanno che stanno creando quindi c'è qualcosa di psicologico da comprendere che una volta compreso guardate che l'opposizione plutone plutone marte e aiuta plutone in capricorno e marte in cancro è divinamente aiutata da due punti di talete quindi è come se aveste poi probabilmente ce li avete anche nella realtà degli aiuti cioè delle figure che vi aiutano a fare la quadra e a trasformare questa dinamica è divinamente aiutata da saturno in pesci punto di talete qui e urano in toro c'è bisogno di un grande cambiamento c'è bisogno di guardarsi dentro con onestà saranno due mesi altamente formativi ma potreste veramente liberarvi di qualcosa di immenso è chiaro che state andando incontro ad un cambiamento o delle dinamiche o della dimora anche fisico anche concreto cioè alla fine di questo percorso alla fine di questi mesi infiniti di marte in cancro l'anno prossimo quando marte lascerà ed entrerà nel segno del leone voi arderete cioè avrete veramente la forza di iniziare una nuova vita letteralmente una nuova vita probabil può essere anche con le stesse persone qua non è un reset però persone proprio rinate rinnovate quando marte entrerà nel segno del leone ci sarà giove entrerà nel segno del cancro quindi renderà manifesta la trasformazione cui avete lavorato insieme a marte in cancro in tutti questi mesi quindi è una nuova vita vi ricordo che avete il nodo nord in ariete si sta chiudendo un ciclo di 19 20 anni quindi tutto quello che accade adesso è proprio per rinnovare un all'inizio del 2025 quindi a gennaio 2025 inizierà il nuovo ciclo dei nodi lunari e inizierà quella che è una nuova vita quindi state lavorando per trasformare e per migliorare non vi non vi spaventate e fate quello che è giusto ripeto osservando quanto vi fate abusare magari da qualcuno perché nelle è uno specchio di quanto magari voi rispettate voi stessi o anche qualcun altro quindi consiglio tosto ma necessario perché state chiudendo chiudendo un ciclo inaugurando una buona vita io vi mando un grande bacio vi aspetto nei commenti e insomma forza e coraggio cari amici del toro cari amici con l'ascendente toro con la luna in toro benvenuti ad un mese altamente formativo con dei transiti in segno di terra e di acqua che vi aiutano a sistemare un po di cose ma fondamentalmente benvenuti ad un mese in cui i due corridoi energetici di lune nuove e lune piene che che si alternano quindi quella luna nuova la luna piena in acquario che viene da da agosto e poi la luna del 18 che sarà una piena in pesce congiunta nettuno mi parlano di aspirazioni professionali e relazionali progetti quindi qui c'è qualcosa che bolle in pentola e che è in continua trasformazione non ha no voi non avete finito di trasformarvi e e quindi le vostre aspirazioni quello a cui mirate quello che voi desiderate quindi i vostri desideri non sono ancora completamente ben definiti e fondamentalmente anche a causa anche grazie a questo nodo nord in ariete che sta lavorando nel vostro inconscio che vi dice che voi non sapete ancora chi siete veramente e grazie a urano sul vostro sole sui vostri valori toro sulla vostra luna sul vostro ascendente il personaggio che non ha ancora finito di trasformare questa è voi siete in una in una lavatrice poi siete nella fase di centrifuga centrifuga della lavatrice e non è ancora finita quindi fondamentalmente voi non sapete i panni dove andranno a cadere non sapete ancora chi siete definitivamente avete capito che c'è un cambiamento ma con tutti questi pianeti retrogradi e però pure quello che facevamo prima andava bene ma io volevo fare avevo iniziato un'altra cosa ma sai che è sempre meglio chi lascia la via chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova siete no in quella fase di recupero il passato fammi stare con questi pochi guai ma chissà poi dove vado a finire chissà se lo so fare quindi siete in questa fase qui e niente durerà ancora per un tempo quindi va accettata non rimanete fermi muovetevi quando lo sentite quindi con la luna nuova del 3 probabilmente in vergine una nuova in vergine probabilmente avrete una nuova lucidità chi non ce l'ha ancora sappia che questa luna nuova in vergine può dare qualche input positivo dal punto di vista sentimentale quindi sapete il toro è un essere venusiano è un essere comunque legato al cuore alle dinamiche sentimentali nel momento in cui c'è dell'incertezza c'è una trasformazione plutone ritorno in capricorno quindi non ancora finito di liberarvi da vincoli da sudditanze da condizionamenti da timori quindi quando c'è ancora questa incertezza l'amore la bellezza e l'arte possono salvarvi la passione quando la mente si impalla voi avete nel nelle nelle dinamiche di cuore la salvezza questa bella luna in vergine non è sentimentalissima ma si sa nelle case solari del segno del toro la quinta cade nel segno della vergine e quindi anche quella dimensione idilliaca che il toro ha quando viene al mondo dell'amore poi si deve scontrare con la realtà e il toro per essere felice deve accettare la realtà e non vivere troppo nel sogno quindi questa luna nuova in vergine se stile a marte può può anzi darà sicuramente una bella spinta per quanto riguarda le passioni e i rapporti sentimentali se c'è stata ma retta col partner arriva una nuova ventata di energia grazie a marte in cancro per una nuova di comunicazione per un nuovo modo di comunicare magari partite per un viaggio magari c'è un'esperienza che fate insieme distensiva o semplicemente per un'illuminazione sulla via di damasco iniziate a recuperare il rapporto proprio dal punto di vista della comunicazione che poi vi unirà e vi e si sposterà sulla passione se il partner non c'è sappiate che il marte in cancro che inizia che questo mese di settembre con marte in cancro che avrà un transito straordinario fino ad aprile fino al vostro compleanno del 2025 praticamente e se stile a questa bella luna nuova nel settore dei sentimenti sappiate che se l'amore non c'è arriva a breve probabilmente in un luogo di studio mentre fate un corso mentre vi spostate quindi sui mezzi pubblici mentre fate un viaggio in movimento oppure qualcuno viene a casa non escludo che qualcuno di voi non possa avere un colpo di fulmine col corriere di bartolini che che vi viene a casa perché ho proprio un marte in cancro in terza casa quindi sappiate che l'amore sta per venire a voi e non mi sembra una dimensione virtuale quella nella quale si consumerà l'incontro fatale a meno che non sia in una chat di di cibo di food non so come dirvi perché un marte in cancro quindi comunque comunque sappiate cari toro lunentoro ascendente toro che l'amore alle porte l'amore assolutamente alle porte e questa volta potrebbe essere una cosa stabile duratura perché marte formerà un bel trigono con saturno quindi l'amore alle porte ma 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 è qui importante anche la dimensione lavorativa e professionale avrete il quadro più chiaro a fine novembre quando plutone sarà avrà finito di lavorare con la vostra consapevolezza avrete l'ultimo ritorno di plutone intrigono siete fortunati fortunatissimi perché ci sono nell'opposizione che plutone farà con marte quindi informazioni che arrivano ma che questa volta invece di soggiogarvi trovano un vari punti di talete che vi consentono di separare il bene dal male questo plutone intrigono saturno in se stile nettuno in se stile marte si crea un cielo fantastico che vi ripeto consentirà di pulire da retale avete già fatto tanto dal 2008 ad oggi ma dovete ancora liberarvi e scavare questa è proprio la parte finale scavare ancora più a fondo nella vostra consapevolezza nelle vostre paure quello a cui siete agganciati da tempo e memore vi state liberando vi state liberando avete la forza per liberarvi vi sono arrivati probabilmente con gioventoro gli aiuti per liberarvi siete ancora in trasformazione quindi l'energia di gioventoro siccome è un'energia legata ad urano è probabile che non sia conclusa col 23 maggio quindi con l'uscita di giovedì al segno del toro ma che sia a lento rilascio vedete che segno del toro ancora insomma degli avvenimenti in corso però i transiti sono buoni ringraziando dio tutto il cielo vi sostiene quindi trovate sempre l'appoggio e quindi novità sentimentali arriva l'amore per forza ma soprattutto e è interessante lavorarci perché c'è saturno e non è detto che l'amore ripeto non vi aiuti a capire ancora più cose qui ci sono nuove aspirazioni professionali è pur vero che tra le aspirazioni professionali di una persona c'è anche con chi voglio vivere dove voglio vi dove voglio fare una famiglia dove mi voglio sistemare e che quindi l'arrivo di questa persona di una nuova persona di questo marte in cancro trigono a saturno non sia determinante anche a modificare i vostri progetti che vedranno la luce completa io ve lo ripeto in primavera per il prossimo compleanno e non è detto questo attenzione per chi vive delle relazioni o degli amori tossici di lunga data magari iniziati proprio a cavallo col 2007 2008 2009 non è detto che non arrivi una nuova consapevolezza una nuova energia e una nuova persona a salvarvi ea liberarvi da questi amori tossici da queste dimensioni tossiche una volta per tutte anche se queste relazioni dovessero essere finite chi è implicato energeticamente ancora rivolto al passato ancora non si libera o ancora porta le ferite si sta leccando ancora le ferite per tutto quello che è stato allora trove sappiate voi parlo a voi troverete giovamento da questo marte in cancro che arriva insieme in simultanea con la luna nuova in vergine 3 4 settembre vi aiutano a liberarvi ritorno di plutone in capricorno e vi portano l'amore che partirà dove ne accorgerete in primis per l'amore per voi stessi perché quando una persona si ama gli altri possono fare molto meno di quello che avrebbero fatto che hanno fatto magari quando quella stessa persona non aveva tutto quell'amore per sé quindi amatevi e se non ci riuscite questa venere in vergine se stile a marte in cancro suggerisce se non riuscite ad arrivare ancora al vostro cuore che è ancora sofferente e congelato di iniziare dall'esterno perché una delle cose che ci insegnano quando facciamo i corsi di crescita personale che se non riesce ancora a contattare la tua energia interiore perché è congelata e paralizzata inizia dall'esterno così dentro così fuori così in alto così in basso quindi inizia a prenderti cura della persona fisica fare massaggi iniziare a introdurre nella vostra routine una massimo due perché altrimenti poi le lasciate per strada routine e buone abitudini la passeggiata all'ora d'aria alla lettura mezz'ora di di un libro nutriente una buona abitudine portata avanti per un determinato per un sufficiente periodo porta delle porta una nuova energia e quindi inevitabilmente anche quando non l'avete non ve ne accorgete porta benessere e inevitabilmente novità quindi se non ce la fate ancora da dentro iniziate da fuori io vi mando un grandissimo bacio vi aspetto nei commenti e buon settembre 2024 cari amici dei gemelli cari amici con la luna e con l'ascendente gemelli benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 allora fino al 9 settembre alzo le mani avete ragione voi perché con mercurio nel segno del leone ruggite avete il più i più di la maggior parte dei gemelli ovviamente c'è anche chi chi ci ha lavorato chi chi si controlla chi se ne rende conto però la la tendenza è avendo il vostro governatore nel ruggente segno del leone quella di alzare toni avere la voler avere ragione a tutti i costi e vedere soprattutto la propria ragione voi sapete che mercurio nel nei segni di fuoco soprattutto il leone come dire non ha non ha vede fondamentalmente se stesso come quando in pesci insomma un po si nebbia e quindi c'è questo momento di c'è questo bisogno fino al 9 settembre di esprimere la propria forza la propria la forza delle proprie parole e come dire nei casi in cui magari ci sono altri pianeti in leone nel vostro tema natale anche quella di non voler sentir ragioni in alcuni casi laddove il gemelli l'amico ascendente gemelli o la luna in gemelli siano come dire in in difetto di energia cioè abbiano magari un tema natale poco forte poco in positivo non poco così in positivo poco predominante poco poco arrogante poco poco capace di imporsi agli altri volevo dire questo un leo un transito di mercurio nel segno del leone se stile a giove può essere utile quindi in alcuni casi può essere utile perché aiuta a far sentire la propria voce questo per tutti quei gemelli che sono nel non sempre nel gemelli è il segno della parola della comunicazione del pensiero ma proprio perché è il compito della vostra vita quindi avete il compito di esprimere perfezionare questa dimensione questa simbologia bisogna fare anche l'esperienza contraria quindi anche essere nel non se anche non sa non sapersi esprimere non avere la forza di farlo questo poi dipende dal tema natale dal karma familiare dalle contesti dalle varie sfumature che l'anima ha deciso di incarnare in questa vita quindi in alcuni casi questo mercurio e leone se stile a giove dalla forza all'amico dei gemelli di esprimersi in altri casi non vogliono sentire ragione non possono sentire il minimo richiamo vogliono fare come gli pare ora questo fino al 9 settembre poi dal 9 settembre quando il vostro governatore entrerà nel rigoroso segno della vergine è chiaro che la dovrete la arriverà forse la critica il richiamo o forse voi stessi vi renderete conto che è cambiata l'area e che c'è bisogno ecco di darsi una regolata proprio nel senso che mercurio in vergine porta la necessità delle regole questa regola questo bisogno di regole voi lo percepirete già dal 3 4 settembre quando ci sarà la luna nuova nel segno della vergine e andrà a cadere in quella che è la vostra quarta casa solare che è la casa della famiglia quindi se siete in ferie coincide praticamente con un ritorno ai doveri al tran tran alla vita lavorativa no quindi alla fine diciamo della vacanza se invece le vacanze sono già terminate ci sarà come un bisogno di fare qualcosa in più permettere un impegno maggiore in casa magari dei lavori di sistemazione delle cose che avevate lasciato in sospeso magari fare delle grandi pulizie per qualche necessità o iniziare le cure guardate le pulizie io le considero come la cura della casa e poi c'è la cura della persona che in settembre può coincidere con prevenzioni analisi no indagini qualche interventino programmato insomma cose di questo genere fatto sta che con una luna nuova e poi mercurio in rapida successione settimana successiva tutto nello stesso mese nel settore famiglia indica che adesso bisogna stare a delle regole e quindi procedere in qualche modo cosa che comunque e quindi potrebbe anche essere che voi tornati a casa o comunque concentrati nel settore famiglia iniziate ad imporre delle regole fatto sta che sia che siate voi sia che sopraggiunga una necessità avrete la forza l'appoggio l'impegno di portare a termine tutto quello che di cui avete bisogno perché perché marte esce dal vostro segno dei gemelli che dal 21 luglio al 4 settembre ha contribuito a farvi fare la voce grossa a farvi essere nervosi a ad essere contraddittori contrastanti avete avuto una una lotta interiore più che altro psicologica dentro che però causa quadratura con saturno insomma non si è potuto esprimere e quindi eravate turbolenti e nervosetti adesso marte si toglie dal segno dei gemelli entra nel segno del cancro quindi voi sarete meno stressati in soldoni meno tesi forse un pelo più emotivi ma inizia un percorso tra l'altro molto lungo perché il transito di marte per marte in cancro per voi non è un transito cioè non è un mercurio retrogrado sei mesi però comunque è un marte che si farà sentire da tutti i segni zodiacali chi più e chi meno perché perché avrà questa durata straordinaria e quindi uscirà dal segno del cancro in alla fine di aprile 2025 e quindi è chiaro che il vostro settore dell'indipendenza personale emotiva e dei soldi praticamente delle finanze avrà un avrà una concentrazione di energia fino ad aprile del prossimo anno quindi adesso sarà un energia costruttiva non vi non vi spaventate se dovessero esserci delle uscite saranno degli investimenti a buon fine che andranno proprio che avranno proprio la funzione di farmi di migliorare il vostro status di darvi un comfort in più di dare proprio un miglioramento alla vostra vita che sia un investimento per studio per a seconda dell'età che avete per un progetto per la formazione per la casa per la macchina anche una vacanza qualsiasi anche per l'immagine per l'abbigliamento qualsiasi sia l'investimento in uscita che voi andrete a fare data dati fortunati aspetti che questo marte va a formare con saturno con nettuno con urano avrete degli investimenti avrete un grande ritorno da queste cose probabilmente si anche gli investimenti di cose di di un dispendio che probabilmente avreste dovuto fare tempo addietro non sappiamo quando potrebbe essere anche qualcosa che vi dovevate dall'infanzia visto che un marte in cancro non sappiamo quanto perché ci sono troppi pianeti retrogradi saturno urano i big sono praticamente tutti i retrogradi e quindi ciascuno di noi approfitto però tutti in buon aspetto a marte quindi ciascuno di noi voi compresi approfitta va a colmare le lacune che deve colmare sorte quando quando siete su questa terra quindi se ci sono soldi in uscita è proprio per fare cose che avreste dovuto sono investimenti spese che dovevate fare se invece quel marte trigona saturno indica che i vostri che avete guadagnato delle posizioni lavorativi di status personale maggiore allora quello è un e una un'entrata è proprio un'entrata se non avete avuto ancora notizia nonostante mercurio retrogrado i retrogradi e il saturno che è retrogrado nel vostro settore della realizzazione già dal 30 giugno beh sappiate che notizie di promozioni cambi di status avanzamenti concorsi dovrebbero dovrebbero arrivare entro entro novembre quindi questo ma questo martin cancro che è appena entrato no trigona saturno sarà presto o tardi probabilmente già all'interno di questo mese di settembre ma il transito è lungo sarà lo specchio di pecunia di energia che arriva a voi e si va a sedimentare insomma in quello che è il vostro il vostro conto personale no la vostra la vostra cassa personale un'altra lettura che si può dare a questo cielo molto interessante a questo interessantissimo spostamento di marte trigona saturno può essere un avanzamento un guadagno e una lotta una una vittoria energetica in un percorso di indipendenza psicologica personale e anche sentimentale questo marte in cancro impiegato bene grazie ai trigoni e ai sestili che forma con i big con i pianeti generazionali che ci sono nel cielo a suo favore racconta anche che gli amici dei gemelli sia anche con la luna in gemelli anche con l'ascendente gemelli possono approfittarne per andare a sanare le ferite emotive dell'infanzia ea liberarsi di qualche situazione tossica di quali quali di qualsiasi vincolo che non fa bene quindi saranno comunque sei mesi assolutamente costruttivi e produttivi di grande soddisfazione quindi qualsiasi cosa riguardi il vostro impegno la vostra soddisfazione dal 4 settembre anche se dovrete darvi disciplina costanza e metodo avrete sicuramente le le vostre soddisfazioni piccola chicca visto che questo mese venere è in trigono al vostro sole luna ascendente ai vostri pianeti dominanti nel segno dei gemelli ed è in ottimo aspetto anche a giove chi lo cerca avrà amore chi non cerca amore avrà ancora più amore di quello che ha soddisfazioni piaceri vacanze relax doni passioni insomma una ventata una bella ventata di piacere di aria fresca quindi un grande bocca al lupo per questo settembre vi aspetto nei commenti e vi mando un grande bacio cari amici del cancro cari amici con la luna in cancro e con l'ascendente cancro benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 allora questo mese si sistemano un sacco di cose previo impegno previo lungo e disciplinato impegno ma inizia quella che potremmo definire una sorta di rimonta io non amo tantissimo i toni sensazionalistici perché poi magari uno si aspetta chissà che cosa quindi non vorrei dire che questo è il mese l'inizio della rimonta però insomma ci abbiamo ci andiamo vicino perché allora innanzitutto il vostro governatore la luna il 3 settembre forma si forma forma la luna nuova c'è la fase di luna nuova nel segno amico della vergine è un segno amico perché vi fa arrivare delle notizie delle comunicazioni degli incontri dei chiarimenti è qualcosa che si sistema diciamo inizia un periodo proficuo arriva qualcosa di proficuo che mette ordine a un caos che si era generato insomma non si sa bene neanche come dove dentro di voi fuori insomma nelle emozioni nei ricordi si era incasinato qualcosa arriva questa luna nuova che può essere appunto una notizia un incontro una comunicazione che vi dà la possibilità di mettere ordine in un determinato settore o in più settori dopo la luna nuova ci saranno in rapida successione intesi come transiti positivi il giorno dopo il 4 marte che entra nel vostro segno quindi è come se arrivasse una chiamata con la luna nuova e subito arriva l'energia la l'occasione la direzione da prendere e quindi marte nel vostro segno inaugura tra l'altro un periodo un transito straordinario perché perdurata perché uscirà definitivamente dal vostro segno alla fine di aprile del 2025 quindi a questa nuova direzione a questa nuova notizia questa chiamata a questo trasferimento a questo spostamento a questo viaggio a questa nuova competenza a questa nuova avventura che viene inaugurata con la luna nuova del 3 segue un periodo di impegni di movimento di sfide di crescita di energia che sarà molto lungo ripeto finisce nella primavera inoltrata del 2025 tranne un piccolo transito nel cuore dell'inverno proprio di marte che entrerà un mesetto un mesetto e mezzo il leone e poi torna subito nel vostro segno ma sicuramente non saranno sempre dei mesi riposanti perché se c'è marte che è la sfida che è la lotta quello che è interessante è che questo marte forma tutta una serie di transiti positivi con i pianeti lenti con i big e questo significa che si aggancia ad un'energia stabile tra l'altro marte nel cancro a una forza cardinale cioè alla forza di iniziare di cambiare le cose di iniziare una nuova fase di vita e di avere la tenacia il sostegno la durata la forza le radici affinché questo cambiamento che inizia e questo impegno che vi viene richiesto diano luogo a radici solide quindi è qualcosa inizia qualcosa che può dare frutti stabili duratori soprattutto soddisfacenti soprattutto di crescita soprattutto proprio di ritorno quindi voi investite l'impegno la presenza se si tratta di studiare se si tratta di costruire qualcosa se si tratta di fare un corso d'aggiornamento se si tratta di viaggiare per un periodo se si tratta di trasferirmi per un periodo se si tratta di fare un investimento quindi magari di fare uno sforzo ma ci sarà assolutamente un ritorno un ritorno che secondo quanto dicono le stelle può dipendere anche dal vostro impegno cioè dalla dose di impegno di costanza che riuscite a ammettere perché è un transito che richiede disciplina e anche come dire una messa in gioco delle emozioni già sapete voi siete il segno delle emozioni siete il segno della luna quindi si arriva un marte in cancro è chiaro che si vanno a muovere le radici la famiglia i ricordi dell'infanzia il karma familiare ecco mettiamola così c'è l'occasione di sistemare cose che magari vi portavate dietro da quando siete piccoli o dal karma familiare o da situazioni insomma legate a immobili a case a dinamiche familiari a vecchie relazioni insomma tutto quello che è ambito famiglia ambito nutrimento ambito affetti ambito familiari e ambito anche luogo d'origine casa domicilio dimora quello che vi pare c'è la possibilità di sistemarlo e quello che probabilmente diciamo traspare dal cielo è che la notizia che vi arriva non riguarda tanto una novità o comunque se fosse una novità è qualcosa che va a sistemare qualcosa che voi speravate di sistemare perché c'è saturno retrogrado nettuno retrogrado urano retrogrado e plutone retrogrado quindi c'è la possibilità nei prossimi sei otto mesi di risolvere questioni del passato in maniera stabile definitiva come quando uno chiude una casa butta la chiave e va avanti quindi è qualcosa di assolutamente positivo c'è anche importantissimo per voi l'ultimo l'ultimo dopo 16 anni l'ultimo ritorno questo mese inizia questo mese e dura fino a fine novembre ritorno di plutone nel segno del capricorno che ho posto a voi quindi va a scavare nelle relazioni nei rapporti nelle dinamiche di rispetto proprio nelle dinamiche relazionali per aggiustare una volta per tutte dando un bel corpo un bel colpo al fondo del barile per raschiarlo definitivamente quanto più possibile prima che il pianeta uscirà dal vostro segno per far venire a galla andare proprio a scorticare le parti forse più dolorose delle dinamiche dei rapporti di quello che vi è mancato nell'infanzia del modo in cui lo aggiustate adesso del nutrimento che vi è mancato del rapporto con la mamma con la famiglia tutto viene da lì io il consiglio che vi do e di leggere soprattutto il secondo libro delle cinque ferite emotive perché spiega meravigliosamente come da qualcosa successo nell'anteguerra tra l'altro percepito anche male da noi magari neanche come dire neanche provocato derivino tutta una serie di aggiustamenti sbilanciamenti compensazioni proprio a volte fuori dalla grazia di dio fuori dalla logica sabotaggi paranoie che ci andiamo a creare e che invece insomma con un dialogo con noi stessi e con l'individuazione del problema si possono sciogliere con un po di buona volontà quindi se dovessero ricomplicarsi con questo ultimo ritorno di plutone in capricorno opposto a marte in cancro tutta una serie di dinamiche vittima carnefice cose che si inceppano voi che cercate di controllare voi che siete e per l'ennesima volta controllati gli abusi di potere insomma queste cose qui vi consiglio di dare una letta a questo libro perché può esservi di aiuto per far capire quello che sta accadendo e soprattutto per prendere il meglio dal transito e dall'astrologia e sfruttare diciamo questi triconi che ci sono perché marte in cancro va a sollecitare anche l'emotività e quindi i ricordi le memorie anche le memorie falsate opposta a plutone insomma mi può far usato bene comprendere che avendo una ferita emotiva c'è chi se ne approfitta plutone in capricorno no l'opposizione ma questa volta c'è per l'ennesima volta direi dell'ultimo anno anno e mezzo urano a favore quindi l'opportunità di trasformare la situazione marte che vi dà il coraggio di andare in fondo alla questione di guardare in fondo al pozzo saturno retrogrado comprendere le memorie il karma familiare forse anche saturno riveste il ruolo di qualcuno che vi si mette a fianco e che vi aiuta nettuno retrogrado gli ideali le le paure i demoni i fantasmi che trovano come dire una nuova veste soprattutto su cui si getta una luce nuova e quindi insomma tanti nodi esistenziali personali soprattutto relazionali che si sciolgono i pianeti in vergine di questo mese la luna nuova mercurio il 9 aiutano tra l'altro e anche la venere in scorpione a fine mese vi aiutano anche ad avere il coraggio la disciplina la maturità proprio permettere per avere per esempio venere scorpione a fine mese trigono a marte di andare a guardare in fondo a situazioni complicate sentimentali per esempio o dinamiche relazionali con coraggio e invece beh la luna nuova e mercurio in vergine prima vi danno proprio quella lucidità mentale che vi dà la possibilità di togliere un velo e di liberarli finalmente di qualcosa quindi con l'impegno credetemi con il vostro impegno trovate un cielo e una disponibilità di energie di eventi che si incastrano che veramente vi potrebbero aiutare a uscire fuori dal guscio in soldoni potrebbero arrivare delle sfide lavorative delle occasioni lavorative molto interessanti che questa volta avete la forza di superare o che aggrappandovi a questa nuova opportunità riuscivi daranno la possibilità di superare dei gap relazionali e soprattutto ci sono delle grandi novità dal punto di vista proprio sentimentale del matrimonio della coppia si può inaugurare una nuova stagione a patto che voi usciate da quelle vecchie dinamiche un po tossiche che hanno una storia emotiva nelle generazioni che vi hanno preceduto e nel rapporto fondamentale con la mamma senza dimenticare che chi sia pianeti in cancro insomma importanti potrebbe andare a dare anche un'occhiata alla sindrome del gemello sopravvissuto io ve le butto lì ognuno coglie quello che è pronto per cogliere senza forzature e giusto così per per aprire per buttare un occhio a cose che magari non ci erano arrivate prima perché può succedere quindi io spero di esservi stata utile fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e buon marte in cancro a tutti gli amici del cancro luna sole e ascendente cari amici del leone cari amici con l'ascendente leone con la luna in leone benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 allora per tutta una serie di lune lunazioni per il fatto che c'è la luna nuova in vergine il 3 settembre per il fatto che poi ci sarà quella piena la una piena del 18 settembre in pesci congiunta nettuno per il fatto che c'è saturno retrogrado per voi questo mese e probabilmente non solo ma insomma il focus è proprio concentrato su questo mese c'è uno strano strano perché voi non siete personalità molto introspettiva in teoria siete molto concentrati sulla realtà siete molto pratici pragmatici concreti organizzati però fatto sta che sembra che il mondo interiore stranamente inizi a chiamarvi inizia a chiamarvi prepotentemente in realtà avete il transito di saturno nel segno dei pesci quindi nella casa diciamo del karma personale familiare delle memorie le cose nascoste già dal 2023 però probabilmente siccome dipende anche dalla natura di una personalità di una così di un indole è chiaro che probabilmente ci vuole un po di tempo prima di scendere in queste dinamiche in queste simbologie profonde parte ovviamente le eccezioni che confermano la regola i temi natali insomma un po più particolari magari con una quantità di pianeti di valore in segno d'acqua quindi più inclini al sentire quindi diciamo che il senso di questo mese è legato ad un gioco di dinamiche fondamentalmente interiori che poi ovviamente sì quando saranno consolidate si riverseranno anche all'esterno e poi vi porteranno a cambiare modo di fare di dire a fare delle scelte diverse fatto sta che con saturno retrogrado con e con ettuno retrogrado in pesci memorie karmiche karma familiare storia antica quindi quello che del passato della vostra famiglia del vostro albero genealogico è arrivato a voi anche in termini di di indole di salute di questioni irrisolte di segreti familiari di cose non dette sembra essere portato a galla dalla luna nuova nel segno dei pesci che ci sarà il 18 settembre sarà una nu una luna che si farà piena soprattutto su nettuno quindi le le memorie che vengono a galla qualcuno che ve ne parla voi che sentite il bisogno di approfondire qualcosa e poi questo le simbologie diciamo le le cose legate a questa luna verranno progressivamente con il tempo nei mesi fondamentalmente raggiunte da saturno in pesci che metterà ordine a tutto questo quindi inizia un è come se si apresse il vaso di pandora se non l'avete aperto finora se l'avevate già guardato perché insomma da tutte le parti si sta parlando di radici di memorie di costellazioni di karma familiare se già avevate dato uno sguardo e magari avevate trattato un ramo della famiglia oppure degli avvenimenti specifici magari risolto comunque lasciato andare delle cose adesso sembra che ci sia un secondo richiamo e che sembra che il suggerimento delle stelle sia di andare ancora più a fondo questo sembra essere importante poi lasciare andare quando saturno tornerà diretto quindi a novembre e raggiungerà poi e stiamo parlando dei primi mesi del 2025 e raggiungerà poi la fine del segno dei pesci quindi vi aiuterà a aver sedimentato digerito affrontato insomma tutte le questioni che vi interessavano poi insomma lascerete lascerete andare quello che avete trattenuto quello che magari avete portato sulle spalle i pesi di generazioni precedenti che magari avete portato sulle spalle e quindi inizierete a fare ordine ecco questo mese vi dà più o meno l'idea dell'ordine che dovrete fare perché la luna nuova in vergine del 3 raggiunta da mercurio quindi la la programmazione la lucidità di quello che è già avvenuto della ventata d'aria virginea quindi di mettere in ordine che vi è già avvenuta il 3 poi verrà raggiunta da mercurio in vergine il 9 che vi aiuterà a fare come dire un punto della situazione a programmare un attimo a fare ordine in quello che può essere emerso questi pianeti in vergine si oppongono all'asse pesci che è quello delle memorie collettive del karma che potrebbe riemergere insomma che voi potreste aver voglia di affrontare e quindi pianeti in vergine vi faranno vedere aiutati anche dal trigono con urano in toro che cambia che cambia la materia cambia le dinamiche cambia cambia anche il terreno la qualità del terreno nel quale ci muoviamo insomma trasforma la nostra realtà pratica la nostra realtà concreta quindi grazie anche a questo a questa interposizione di urano capirete cosa è arrivato a voi cosa dovete lasciare andare e cosa dover trattenere quindi fondamentalmente è un fare ordine nel passato fare ordine energetico economico quindi chiudere rubinetti a qualcosa di tossico di dispendioso magari è un'abitudine che vi era arrivata che avevate preso in famiglia che avevate da da sempre e a cui non avevate mai fatto caso che invece magari è dispendiosa è onerosa insomma è come se questo mese si proprio come è giusto in linea quindi allineati perfettamente con con il segno della vergine con il secco le simbologie di settembre in cui si rinizia si fa ordine si si da si inizia un nuovo anno con nuovi presupposti e con nuovi obiettivi una sorta di capodanno forse il capodanno più vero che c'è almeno nel mondo occidentale per come lo viviamo noi no e quindi questo settembre perfettamente in linea con le simbologie del periodo bisogna iniziare a capire come dissi come prendersi cura di sé come togliere determinate attenzioni come fare ordine nelle finanze come intervenire sulle uscite sulle entrate ripeto non solo economiche ma anche in termini di attenzione di abitudini di pensiero anche di persone di cui vi circondate perché con questo bel giove in gemelli che è stato raggiunto da marte in gemelli da fine luglio fino al 4 settembre quadrati a saturno insomma anche il settore delle amicizie delle frequentazioni probabilmente nell'ultimo mese e mezzo è stato al centro dei vostri pensieri sono emerse delle dinamiche alcune mi sono state bene altre no qualcuno vi ha suggerito delle cose interessanti magari avete recuperato qualcuno che avevate bollato come poco interessante l'avete riscoperto stimolante qualcuno invece proprio non andava bene insomma c'è stata maretta movimento cambiamento indecisione traffico traffico anche a volte caotico nelle amicizie e anche lì settembre sarà un mese rivelerà un mese utile per permettere ordine quindi le amicizie le frequentazioni quelli che ritenevate punti di riferimento le vecchie abitudini la consapevolezza di quello che c'è dietro abitudini convenzioni dinamiche familiari e karma familiare a cui se vorrete mettete e complice quel bel nodo nord in ariete nel nel settore della conoscenza e della consapevolezza forse vi state state inaugurando una nuova stagione della vita nella quale vi aprite a nuove dinamiche nuove verità nuovi punti di vista nuove attitudini una nuova apertura mentale quindi c'è una sorta di rinascita qualcosa di interiore si vedrà fuori fra un anno e mezzo due quando giove nel segno del leone renderà manifesto tutto questo lavorone che comunque state facendo in sordina complice di questo lavoro è l'opposizione di plutone in acquario che ha iniziato già ad allentare alcuni rapporti alcune relazioni alcune alcune situazioni o se non le persone il modo di viverle e di gestirle quindi si sta allentando l'energia e si sa che quando si crea uno spazio questo può essere occupato e ricolmato da da qualcun altro quindi sembra essere più l'inizio di un periodo dove forse fuori non si muove tantissimo ma è dentro nella parte sommersa quindi a livello più profondo che si generano delle dinamiche interessanti che probabilmente hanno bisogno di un tempo intenso un tempo un po più lungo per sedimentarsi nel vostro inconscio per inciso avreste avrete marte in cancro nel settore dell'inconscio fino ad aprile 2002 e quindi in soldoni volete voi volete sapere quando tutte queste tutte queste correnti ascensionali profonde si dimostreranno no daranno vita a un cambiamento o ad una manifestazione questo avverrà quando marte entrerà nel segno del leone il 5 novembre 2024 e ne uscirà se non erro se i a gennaio 2020 a gennaio o febbraio 2025 non voglio dire cose inesatte anche se ovviamente si tratta di uno spoiler a gennaio il 6 gennaio quindi dal 5 novembre al 5 gennaio ci sarà una prima manifestazione di di quello che queste dinamiche interne interiori stanno generando guarendo perché vi ricordo che il marte in cancro per sei mesi nel settore del vostro inconscio farà trigono a saturno e nettuno e sessilia durano insomma quindi state costruendo forse una versione più autentica di voi perché man mano che si va avanti con l'età ci si libera del karma passato chi vuole farlo se no ci sa chi se lo porta affettosamente dietro per tanto tempo chi si sente pronto si leva dei fardelli si fa aiutare alle va perché da soli insomma no un po difficile si si fa ai cerca aiuto per togliere dei fardelli generazionali e come dire di emerge con una versione di sé più autentica e per questo ci vuole marte e leone perché ci vuole sempre il coraggio di vedere quello che c'è e di essere ciò che si è al discapito di tutto quello che la famiglia gli affetti premono cercano di farci essere perché soprattutto chi ha il segno del leone molto importante quindi chiede il segno del leone chi ha l'ascendente leone anche chi ha la luna e leone se vogliamo intenderla in un oroscopo lunare a un inconscio in cancro quindi la famiglia l'infanzia le aspettative genitori fratelli il nucleo i figli hanno più peso di quello che si di quanto si pensi e su queste note vi lascio riflettere vi mando un bacio immenso e vi auguro un buon agosto di rivelazioni 2024 cari amici della vergine cari amici con l'ascendente vergine con la luna in vergine benvenuti ad un mese di settembre 2024 chiave evolutiva che sarà sicuramente migliore di agosto io sono qui per dirvi che il peggio è passato avete già saturno contro che credo possa abbassare credo possa abbassare veramente a tutti chiunque di noi abbia avuto saturno contro cioè qualsiasi persona quasi praticamente qualsiasi persona in grado di ascoltare un oroscopo sa di che cosa stiamo parlando avete saturno contro e nettuno contro e al segno della ragione e dell'intelligenza pratica e della lucidità mettere forse non tanto saturno ma nettuno dal 2011 in posizione confondente credo che insomma sia già una grande sfida allora le buone notizie sono che la sfida sta finendo la sfida sta finendo perché già sono andata a guardare già nella primavera del 2025 nettuno farà il suo ingresso nel segno della riete quindi ci saranno delle retrogradazioni nel segno dei pesci però il peggio è passato quello che è magari come dire il grosso del prossimo anno ma sarete aiutati da tutto il resto del cielo garantito sarà quando saturno andrà a raggiungere i gradi di nettuno perché perché tutte le illusioni tutti tutti no perché un essere umano non ce l'ha fatto a toglierli tutti ma per quello che potete reggere singolarmente i veli dell'illusione portati prima da nettuno saranno raggiunti da saturno e quindi smantellerà tutta una serie di dinamiche relazioni situazioni illusorie che possono rientrare anche nei nelle società nei contratti lavorativi nei contratti matrimoniali perché di questo si tratta quindi nelle relazioni anche nel modo di vederle quindi possono succedere molte cose però il peggio è passato e man mano che ci avvicineremo a giugno 2025 i transiti saranno sempre più clementi con voi perché dico questo perché all'opposizione di saturno e di nettuno dal 21 luglio al 4 settembre prossimo venturo avete avuto anche la quadratura di marte in gemelli e mercurio retrogrado opposto a opposto a saturno quindi io direi che può bastare ci sono stati sicuramente dei oltre a una revisione profonda dei rapporti interpersonali delle relazioni dei sentimenti delle società dei contratti inevitabilmente con questi mercurio retrogradi raggiunti dalle quadrature di marte e di giove e anche di giove potreste aver avuto dei trasferimenti dei cambiamenti magari neanche tanto sgradevole a prescindere ma dei cambiamenti lavorativi così di spostamento di trasferimento di sostituzione di qualcuno volendo anche di promozione perché ricordatevi che i transiti sfidanti di saturno sono anche un doversi assumere delle responsabilità che magari in quel momento non vi sentite direggere di prendere o delle promozioni così grandi che magari vi spaventano e che vi obblicheranno in tempi stretti perché le dissonanze di saturno sono anche questo vi obbligheranno a darci sotto cioè a dare veramente fondo a tutte le vostre energie il vostro impegno per colmare quei gap quelle cose che non sapete cioè con un'opposizione di saturno si possono fare anche 10 15 esami all'università e poi insomma uno si deve fare la flebo no ok cioè dipende ognuno di noi ha una risposta a una risposta particolare ai transiti sfidanti c'è chi va in iperattività e chi rimane bloccato insomma questo dipende dal tema natale al vissuto a karma familiare ogni situazione è a sé quindi chi c'è chi di voi con tutte queste dissonanze rimane immobile no posizione credo del cervello rettile che proprio per protezione va in conservazione come la natura si congela durante l'inverno e c'è chi invece va incontro proprio all'ostacolo si rimbocca le maniche e dice adesso vi combatto tutti quindi questo dipende da voi comunque avete avuto varie come si dice siete stati attaccati su più fronti adesso dal 4 settembre io direi iniziare a respirare probabilmente vista la tensione avreste dovuto fare quei ossigenazioni quelle per abbassare il cortisolo e lo stress in generale già forse già in luglio agosto ma non è mai se non le avete fatte non è mai troppo tardi per iniziare a farle adesso luna nuova quindi in vergine il tre una bella luna nuova in vergine trigonaurano quindi opportunità cavalcabili insomma una nuova visione delle cose una nuova mentalità un nuovo suggerimento un aiuto quindi cose che magari sembravano destabilizzanti che adesso non dico che vadano a posto ma vedete la fine cioè sapete sapete come gestirle e poi e poi bellissimo il 9 il ritorno di mercurio a casa vostra nel segno della vergine quindi concretezza calma forza sarà un mercurio che anche se è opposto a saturno poi nettuno avrà il trigono di urano quindi sarà un mercurio che riuscirà a cavalcare le situazioni e quindi ad organizzarle a gestirle e a metterle a posto e la cosa molto interessante che il 4 settembre entra marte in cancro in vostro favore e per grazie all'universo grazie a dio per un transito straordinario ne uscirà solo intorno al 20 aprile 2025 avrete solo marte in cancro è un grande amico della vergine vi darà non solo gli appoggi necessari per risolvere le questioni che vi servono e anche un grande aiuto a casa ma vi darà la possibilità proprio di avere le risorse delle risorse che vi aiuteranno anche a fronteggiare queste questioni di questo saturno di questi nettuno contro che sembrano far parte di un'illusione partita nel 2011 di fronte alla quale vi state alla quale o alle quali perché 13 anni sono tanti quindi le situazioni ibride confuse che si possono essere create sono diverse ma a causa dell'ingresso di saturno in pesci magari vi state svegliando molto velocemente quindi ne vedete diverse da fronteggiare ebbene questo surplus di energia data da marte in cancro che per sei mesi vi farà da spalla voi riuscirete a immaginare successi a mettere ordine a risolvere a fronteggiare tutta una serie di veli di nuove consapevolezze di rivelazioni che potrebbero sembrare scomode insomma oppure un mio dio che si presentano velocemente quindi una volta che avete due punti di talete in realtà avresti anche il terzo che sarebbe plutone plutoni in capricorno anche se opposto a marte in cancro e quindi riporta le dinamiche dei giochi di potere ha a sua volta proprio l'oroscopo girandolo come prisma come lo metti metti in perfetta armonia a sua volta l'opposizione marte in cancro plutoni in capricorno a gli alleati che sono i pianeti in pesci generazione al saturno e nettuno e urano in toro che sarà scomodo come transito ma questo plutone ci ha aiutato tanto insomma dal 2018 ad oggi quantomeno a gestirlo quindi è il peggio passato il peggio è passato senza se senza ma anche se io non insomma non voglio promettere mari e monti ognuno ha la sua capacità di reazione quindi non tutti si lanceranno con la stessa non tutti hanno gli stessi tempi di ripresa ma per me il peggio è passato un po per tutti le novità arrivano dal campo delle amicizie dell'entourage la forza sembra che arrivi da lì quindi qualcuno o vi trasferiscono trovate un team o arriva qualcuno dove siete voi che porta nuova energia insomma quel team di lavoro riprende vita è una vita positiva un'emotività vi sentite a casa vi sentite accolti questo è importante oppure se non è qualcuno del team è qualcuno del team di lavoro è qualcuno a cui vi affiancate perché magari entrate in un gruppo di supporto di psicoterapia di costellazioni qualcosa di crescita persona qualcosa che vi dia nuove risorse da spendere per affrontare i cambiamenti che inevitabilmente saturno e nettuno opposti vi stanno chiedendo e anche giove quadrato vi stanno chiedendo quindi perdite fine delle illusioni quindi a volte bruschi risvegli ma i bruschi risvegli ci sono stati più in ripeto in luglio e in agosto adesso è tutto molto più più dolce più sostenuto soprattutto avrete arriverete in un punto in cui vi sentirete a casa l'ultima l'ultima chicca che mi sento di darvi bene anche l'amore soprattutto dal 23 settembre quando venere entrerà nel segno del dello scorpione formerà un sestile con plutone potrebbe tornare qualcuno rinnovato o potreste finalmente uscire da situazioni e quindi insomma qui arriva una nuova ventata di passione ma questa volta grazie a trigoni di marte insomma grazie a tutto questo bel cielo ci sarà una nuova un nuovo modo di di affrontare le le situazioni di fare chiarezza e di impostare un nuovo tipo di dinamiche il consiglio che vi do se non si muove niente immettete visti transiti che avete vista la forza che vi da marte in cancro delle novità nella vostra vita perché quando non si muove niente vuol dire che dentro siamo paralizzati a torto o a ragione perché si può sempre fare di più siete paralizzati allora se non riuscite da dentro a sbloccare si aggiunge e si aggiusta da fuori quindi immettendo una nuova abitudine e immettendo nuove conoscenze e nuove energie tradotte in nuove frequentazioni quindi qualcosa di buono un seminario un gruppo di lavoro un corso di crescita personale qualcosa che vi sblocchi e non se il seminario dura un pomeriggio prendete quelle nozioni che vi sembrano che vi risultano utili e applicatele in modo che diventino routine perché una rondine non fa primavera ma voi vincete tutti ma voi soprattutto perché ne siete l'emblema voi vincete con la costanza con la quotidianità quindi prendete qualcosa di buono e infilatelo nella vostra routine e sarà con questo cielo sarà un successo quindi vi mando un bacio strepitoso vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon settembre 2024 cari amici della bilancia cari amici con la luna in bilancia con l'ascendente bilancia benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 scusate se faccio questa espressione perché non sapevo come buttarla lì allora questo mese che un mese di grande recupero psicofisico grazie all'ingresso e al transito della venere nel vostro segno quindi il vostro governatore è in domicilio e per la prima volta dopo diversi anni questa bella venere in bilancia riesce ad esprimersi abbastanza liberamente grazie al trigono con giove adesso è il momento della consapevolezza dell'iniziare ad avere un uno stile di vita più salutare insomma in soldoni di volervi bene di più probabilmente negli anni precedenti né almeno nei tre quattro anni precedenti siete stati particolarmente sacrificati particolarmente sotto stress particolarmente lontani da voi stessi quello che vorrei riuscire a passarvi e che il vostro tema natale insomma dichiara almeno ai miei occhi insomma per come la leggo io chiaramente è che ci sia un urgente necessità di volervi bene soprattutto di avere cura di voi stessi forse non nel metodo consono ma nel senso di avvicinarvi alla vostra interiorità e di non farvi condizionare e stritolare da quelle che sono le abitudini da quelle che sono le aspettative delle persone intorno a voi da quella che è anche l'educazione ricevuta dalla necessità di accontentare tutti di siete l'esaltazione di saturno quindi probabilmente vi portate sulle spalle anche una tradizione familiare legata ai genitori legata ai nonni che insomma può avervi particolarmente condizionato probabilmente non c'è un ascolto sufficiente delle vostre emozioni e questo a gradi differenti perché non siete tutti uguali nessuno di noi è uguale dipende dal tema natale dalla consapevolezza anche dal sano egoismo no da quella che poi l'indole di una persona ma avete per accontentare tutti proprio come come dire come struttura del tema natale avete la tendenza a reprimere le vostre emozioni e ad essere estremamente razionali voi avete la casa dell'inconscio nel segno della vergine e la vergine è venuto allo scopo fondamentalmente di mettere ordine a quello che è il caos però siccome non ci insegnano ancora bene a gestire come dire la macchina biologica no i corpi emotivi non ci insegna nessuno ci insegna neanche a scuola ad equilibrare il corpo mentale con quello emotivo perché siamo ad un livello come dire di sviluppo di coscienza e di società per cui si va a scuola c'è una grande anche come retaggio del relativamente recente passato illuminista dell'illuminismo c'è un ed è giusto così una grande importanza si dà una grande importanza alla conoscenza alla razionalità però tutto questo non è tutto buono ciò che esclude un'altra parte di noi che esiste le emozioni in voi che siete proprio nati nel segno della bilancia o che avete dei valori importantissimi come l'ascendente o la luna nel segno della bilancia la necessità di equilibrare ragione consentimento ragioni ed emozioni è fondamentale per la salute proprio per l'equilibrio psicofisico chi è ceduto nei valori verginei dell'inconscio chi è ceduto con la razionalità col senso del dovere col fare il bravo figlio il bravo genitore e ascoltando poco se stesso probabilmente da un po di tempo a questa parte inizia ad avere qualche sintomatologia di salute insomma qualche acciacco qualche qualcosa che si sta cronicizzando qualcosa che prima magari era in latenza e che adesso invece sta venendo fuori può essere sia a livello psicologico psico emotivo come l'ansia lo stress l'attacco di panico e può essere invece proprio una somatizzazione può esserci già un passaggio e una somatizzazione a qualcosa di fisico questo è dato dal fatto che nettuno prima quindi dal 2011 ad oggi lo stress e anche l'illusione che poteste perché quella cosa non poteste non potesse farvi male che quell'atteggiamento quella rinuncia non avesse conseguenze dal 2011 nettuno e dal da febbraio 2020 da marzo 2023 saturno vi stanno mettendo di fronte a una parte di voi che sa che sta avendo delle defaianze io parlo proprio della dell'equilibrio psicofisico e della salute più meno vi siete ascoltati più avete ignorato le vostre emozioni e più c'è disordine in questo momento nella vostra vita quindi la retrogradazione di saturno fino a novembre e anche quella di nettuno che ho già dimenticato ma parliamo di secola secolorum e anche la retrogradazione di nettuno adesso vi dico fino a fine anno indicano che questa situazione di latenza sta diventando sempre più cronica insomma praticamente vi dovete occupare di voi a partire dalle emozioni il corpo parla e parla sempre e le emozioni parlano e parlano sempre attraverso il corpo che non mente mai quindi l'ascolto di voi è importante questa bella venere in bilancia trigono a giove ci suggerisce vi suggerisce che adesso c'è l'opportunità c'è la distensione per ascoltarvi magari avete sistemato qualcosa in famiglia a casa al lavoro e avete finito insomma no e quindi potete prendervi cura di voi ascoltatevi date spazio al piacere rilassatevi prendete i vostri tempi e dove c'è la necessità rivolgetevi insomma a personale specializzato che possa aiutarvi a tal proposito il 3 il 3 settembre c'è una luna nuova in vergine che vi farà forse prendere consapevolezza magari di quanto avete tirato la corda no e anche poi l'ingresso di mercurio nel segno della vergine lucidità nel 99 settembre vi farà rendere conto di quanto magari la routine che riprendete a settembre sia troppo tirata rispetto a quelli che sono i vostri bisogni i vostri tempi e le vostre defaianze i vostri cali di energia adesso quindi cercate di distaccare poi è molto interessante anche se di solito per voi sfidante ma questa volta vi potrebbe aiutare l'ingresso di marte nel segno del cancro marte in cancro e in quadratura con i valori in bilancia ma capito il messaggio che porta e gestito in un altro modo quindi se mettete in discussione le abitudini che avete avuto adesso e se magari affrontato una spesa in più per trovare un aiuto per le necessità di cui avrete bisogno vedrete che questo marte trigono a saturno e a nettuno vi farà capire di che aiuto avete bisogno per risolvere il vostro stato diciamo di stress psicofisico quindi se via se vi se questo marte tra l'altro nel decimo settore delle case solari vi dovesse stimolare a lavorare troppo questa volta regalatevi un aiuto se non dovesse rappresentare uno stress troppo grande probabilmente questo marte per voi rappresenterà proprio l'occasione per cambiare delle dinamiche lavorative perché sarà trigono saturno e nettuno che visti che stanno transitando nel vostro sesto settore che è quello del lavoro quotidiano della routine dello stile di vita e quindi sta ad indicare che fino alla primavera del 2025 voi avrete l'opportunità la forza e la necessità anche in alcuni casi di modificare lo stile di vita e renderlo quindi eliminare gli atteggiamenti le situazioni le dinamiche tossiche e di migliorare assolutamente vi ricordo che questo prevede proprio un cambio di mentalità giove in gemelli che che intrigono gli amici della bilancia prevede proprio un transito nel settore della vostra consapevolezza prevede proprio di abbracciare altri punti di vista di ampliare la visione della vista di ampliare gli orizzonti di integrare qualche verità che può esservi comoda utile e che possa aiutarvi a vedere le cose da un punto di vista diverso più ampio meno sacrificato e più positivo e nutriente per voi quindi in soldoni abbiate cura di voi se non sapete da che parte cominciare se non vi potete permettere in questo momento non ve la sentite di come dire di farvi affiancare da qualcuno di fare desiminare iniziare introdurre ascoltate il vostro corpo e quando una sensazione è sgradevole allontanate quello che state facendo più un basilare di così poi siete basici e spartani io credo che non si possa insomma quindi io vi mando un grande abbraccio vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon settembre 2024 cari amici dello scorpione cari amici con l'ascendente scorpione con la luna e scorpione benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 benvenuti ad un mese che per voi è particolare particolarmente sentito come tutto l'autunno perché i vostri governatori marte e plutone si dispongono in una posizione particolarissima c'è l'ultimo ritorno di plutone nel segno del capricorno che ritorna proprio per darvi l'ultima l'ultima lezione l'ultimo appoggio l'ultimo aiuto per raddrizzare riequilibrare si raddrizzare senz'altro i rapporti gli equilibri dei rapporti interpersonali il vostro subire o imporre potere manipolazione quindi per risanare le dinamiche anche vittima carnefice anche abusatore abusato tutti i giochi della manipolazione anche le paure perché è chiaro che la persona che che manipola riesce in qualche modo psicologicamente accogliere quali sono le debolezze dell'altro quindi è una fortificazione vi ricordo anche che questo plutone in capricorno è in ottimo aspetto ai vostri valori in scorpione quindi è un aiuto un ulteriore raddrizzata a questo grande lavoro di purificazione ma anche di cadute che fanno parte proprio dell'ascesa del percorso e della crescita dell'essere umano che è fatto proprio di inizi cadute ritorni perché perché così così che si stabilizza l'energia che è partito per voi dal 2008 quindi siete alle battute finali inevitabile quindi in questi tre mesi settembre ottobre novembre ritornare su cose del passato anche incontri su persone per rendersi anche la responsabilità di scelte che sono state fatte nel passato e per perdonarsi per fare conti con qualcosa anche per lasciare andare o per andarsi a riprendere qualcosa o qualcuno lasciato nel cammino anche parlo anche di anime che non ci sono più quindi andrà a fare pace con ricordo di di una decisione di qualcosa ed aver lasciato andare qualcuno che adesso non c'è più anche perdonarsi riportare nel cuore a pacificare queste situazioni questo è vedrete che sarà un passaggio molto importante di questo di quello che poi sarà un compleanno importante perché voi compiere degli anni con l'ultimo ritorno di plutone in capricorno che questa volta sarà trigono a nettuno anche due anni fa proprio anche l'anno scorso c'era ma adesso c'è il secondo o terzo trigono di plutone in capricorno a saturno e nettuno c'è sempre il sestile scusatemi c'è il trigono con urano tutti i retrogradi e quindi avrete proprio la possibilità di sistemare delle cose in tutto questo c'è il vostro altro governatore marte che mentre plutone ritorna in capricorno e vi riporta nel passato per darvi grazie all'appoggio dei pianeti generazionali nettuno urano e anche grazie a saturno favorevoli per darvi la possibilità di riparare ad errori scelte abbandoni cose fatte nel passato c'è marte che si mette in opposizione a plutone quindi questo è un compleanno ma è un trimestre di grande lavoro interiore di grande integrazione di perché i vostri due governatori si mettono a duellare ma in mezzo ci sono saturno che indica la saggezza la maturità il tempo compiuto il momento esatto la maturità giusta la maturazione giusta per per integrare per sistemare le memorie no quindi per trovare una pace interiore trovano in oltre il se stile di nettuno nettuno sono gli ideali le convinzioni il fanatismo tutto quello che è psicologico e quindi riuscirete anche a capire in cosa vi siete illusi in cosa eravate fanatici agitati quali erano le vostre paure i vostri fantasmi cosa vi ha limitati cosa vi ha esaltati cosa vi ha illusi cosa vi ha drogati drogati parlo proprio chimicamente di parte drogati perché le droghe si usano nel senso quindi anche quello potrebbe aver alterato un periodo della vostra vita no ma proprio in generale nettuno è una sorta di confusione di obnubilamento che sia che sia indotto sia che che generiamo noi con le nostre con le nostre follie con le motivi da mille con l'alterazione mentale insomma con il fanatismo con le convinzioni cieche con le visioni parziali di qualcosa e cercare a tutti i costi che la realtà ci confermi un'idea e non vedere un tre quarti del resto della realtà insomma no quelle sono le nostre l'essere umano e la mente umana lo fanno tutti i segni lo fanno lo fanno tutte le persone non c'è niente di cui vergognarsi perché la macchina biologica umana di cui siamo disposti per percorrere questo viaggio più o meno lungo nel mondo della materia anche questi inganni questi giochi psicologici questa playstation interiore come dire questi questi viaggi virtuali che partono per rispondere a delle emozioni a dei comandi a dei cortocircuiti interiori e la centratura più più siamo centrati con l'anima più riconosciamo che sta partendo un un delirio no e quindi insomma niente c'è anche questa possibilità con l'opposizione di marte e plutone che si che duellano e che in qualche modo vi riporteranno a qualcosa del passato qualcosa scelte fatte in base alle ferite marte in cancro avute nella famiglia nell'infanzia le ferite emotive quelle che del rifiuto dell'abbandono dell'umiliazione dell'ingiustizia tutte quelle cose che l'essere umano deve affrontare nessuno tutti nessuno escluso anche il più big dei big proprio per guarire per fortificarsi e attraverso la guarigione guarisce anche le generazioni passate e future quindi è c'è un intenso lavoro di energia aiutato dal cielo quindi non vi non vi aspettate le tragedie peggio è passato giove urano marti urano hanno dato quindi lasciateli andare adesso il tempo di arrendersi a se stessi perdonarsi al proprio al proprio passato fare pace con il passato portare nel cuore per fare pace con il passato bisogna vedere accettare portare nel cuore e sciogliere questi questi nodi quindi è un periodo molto molto intenso ma anche molto molto produttivo dicevamo con plutone ripenserete farete incontri avrete dei chiarimenti insomma rivaluterete le scelte del passato e le scelte del passato che sembrano essere quelle più determinanti con cui fare pace riguardano degli amori e questioni legate degli amori delle passioni non solo l'amore sentimentale o passione sentimentale ma anche delle passioni che attraverso cui vi sareste voluti realizzare che magari a cui magari avete rinunciato e se siete ancora in tempo si possono recuperare stessa cosa vale per i sentimenti per gli amori se non si sono insomma impegnati per la vita con qualcun altro e la terza cosa probabilmente da sistemare i figli figli non nati figli dati in adozione o in affido figli questioni figli magari con cui avete dei problemi invece degli stili ma stanno con voi insomma tutte queste vedrete queste cose che poi insomma sono le più importanti della vita l'amore figli nelle passioni dopo la insomma insieme alla famiglia e al lavoro insomma la realizzazione della persona ne abbiamo nominate credo tutte insomma se mi sfugge qualcosa chiedo scusa quindi c'è un momento di grandissima intensità e il cielo concorre a farvi fare pace con con tutto questo il 3 settembre c'è anche una bella luna nuova in vergine che vi fa trovare anche al posto giusto nel momento giusto affinché gli altri o persone con competenze siano in grado anche in un lavoro di gruppo anche con un team intorno insomma persone che sono in grado vedo che incontrate persone che sono in grado di aiutarvi ci sono vari indicatori di questo c'è il sole in vergine la luna nuova in vergine c'è mercurio che dal 9 settembre fino a fine mese entra nell'amico segno della vergine e che vi fa incontrare le persone giuste il team giusto il progetto giusto che vi fa arrivare le informazioni giuste per voi per completare questo questo quadro oltre a ciò il transito di marte in cancro quindi oltre ad aiutarvi insomma a sistemare delle cose il transito di marte in cancro che continuerà fino a fine aprile del 2025 ha il compito e questo si riallaccia alla luna nuova in vergine ai pianeti in vergine ha il compito per sei mesi con questo transito straordinario sei mesi di di portarvi lontano di portarvi ancora un po più lontano di ampliare i vostri orizzonti sia geografici che legati alla conoscenza alla coscienza alle informazioni e quindi di fare un lavoro così dico di ulteriore completezza vi ricordo che questo marte trigono a saturno e nettuno quindi c'è tutta una ricostruzione della vostra persona fate pace con il passato e andrete molto lontano in tutti i sensi o nella direzione che volete voi insomma quindi se volete viaggiare accadrà quello e comunque arricchirete l'anima se volete arricchirvi di conoscenza quella stessa poi vi porterà un domani soprattutto un 2025 molto lontano quindi spero di avervi detto tutto anche se nello specifico non vi ho detto tanti non vi ho detto le specifiche ma arriva tutto quello che arriva innanzitutto e che ritorna questo mese serve per farci pace per portarlo nel cuore poi in base alle vostre decisioni e al vostro sentire se c'è qualcosa che può rivivere e portarla nel futuro ve ne accorgerete insomma sicuramente nei mesi a venire ma godetevi questo mese perché è come se si aprisse un portale su su un'altra dimensione su una dimensione del passato che veramente può restituirvi tanta pace quindi io vi auguro tutto l'amore tutto il benessere tutta la pace possibile su questa terra fatemi sapere nei commenti e un grande bacio cari amici del sagittario cari amici con l'ascendente sagittario con la luna in sagittario benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 e benvenuti ad un mese che sarà sicuramente migliore del precedente sono qui per dirvi che il peggio è passato anche per voi credo che del 21 luglio al 4 settembre corrente mese voi abbiate come dire vissuto molti di voi non tutti perché insomma il tema natale fa fa dei distinguo importanti offre di distinguo importanti ma molti di voi avranno vissuto probabilmente una delle stadi più tese più intense degli ultimi anni se non è stato così sono molto felice per voi ditemi che cosa avete bevuto perché lo voglio anch'io ok quindi le tensioni marte esce dall'opposizione non avrete più un'opposizione di marte giove in gemelli almeno per 12 anni non sono andata a controllare ma per forza se quando giove tornerà in opposizione al vostro segno se l'ho detto l'ho detto in qualche video ci sarà di nuovo marte in gemelli spero di avere il tempo di andarlo a controllare insomma nel frattempo in questi 12 anni però per adesso siete come dire siete saldi se ci sono stati degli inganni delle perché insomma poi l'opposizione di giove dalle sviste e ci fa essere molto audaci con marte ma posso immaginare le tentazioni le provocazioni le notizie che danno un po fastidio gli incontri quelli che destabilizzano l'essere divisi fra due fuochi il dover prendere delle decisioni e veramente avere un angioletto un diavoletto alle spalle e non sapere e non sapere io mi auguro che voi siete riusciti a tutelarvi no a non pronunciarvi perché era veramente si è trattato veramente di un periodo forbiante se siete caduti nella rete di qualcuno di qualcosa di qualche situazione se avete messo qualche firma promesso qualcosa come dire anche se dovesse volerci un po di tempo nella vita tutto il possibile si può riuscire da qualsiasi situazione e quindi vi volevo dire che un periodo molto positivo per voi per lì per chiudere se voleste delle situazioni che non vi stanno convincendo sarà dal 5 novembre al 7 gennaio perché avrete il trigono di marte che farà un ottimo gioco con quel giove in gemelli che insomma vi vi sta dribblando un attimo e quindi sistemerete un sacco di cose non è detto che questo non accada prima probabilmente già nel mese di ottobre con particolari valori in in bilancia quest'estate quindi è passata insomma con qualche tensione dicevamo anche con qualche giochetto poco chiaro per fortuna vi siete divertiti con gli amici soprattutto in questi giorni in questi giorni anche se insomma l'estate sta finendo si stanno creando delle situazioni questo grazie alla cene uscite ultimi scampoli di vacanza o chi non l'ha fatta in agosto proprio perché c'erano quei transiti impegnativi la fa adesso se la godrà sicuramente molto di più perché avrà più tempo il maggior relax e maggior spensieratezza e quindi c'è questa venere in bilancia trigono a a giove che quantomeno per quanto riguarda l'entourage e le amicizie sta rendendo gradi renderà fino al 23 settembre da gradevole un po la situazione detto questo no cioè detto che c'è un corollario gradevole di amicizie di frequentazione di corteggiatori di flirt volevo dirvi che marte si è tolto dall'opposizione e si sta e si e il 4 si sposta in nel segno del cancro e resterà per sei mesi fatta eccezione di quel periodo appunto novembre gennaio di marte in leone si sposterà diciamo nel settore del del karma familiare dell'eredità ma soprattutto nel vostro caso visti il periodo sfiancante nel settore delle risorse quindi siccome sarà una si formerà un trigono tra questo marte e saturno e nettuno in quarta casa diciamo che troverete il modo sarà un periodo molto probabilmente in cui troverete il modo di ricaricarvi tornando diciamo all'ovile godendo come quando eravate piccoli e accadeva qualcosa per cui vi spaventavate godendo dei ricordi dell'infanzia delle persone che sono state che hanno che vi facevano sentire felici quando eravate bambini e anche di quei probabilmente o di quei luoghi o comunque dell'ambiente familiare quindi se per tutta una serie di cose non vi non vi doveste riconoscere tra virgolette perché insomma si sa che l'amico sagittario è libero un anima libera uno spirito libero che anche insomma quando ha degli stress anzi a maggior ragione ama conoscere il mondo se vi doveste trovare un po più pantofolai un po più nostalgici se doveste scoprire con sorpresa che magari vi ricaricate trovate tutte le vostre risorse nei ricordi negli ambienti familiari tornando magari a casa stando con i genitori stando con la famiglia insomma facendo questa sorta di amar cord guardate ragazzi fa assolutamente parte del transito fa parte del si tratta di un completamento dell'energia perché non siamo monotematici anche se come dire i valori più importanti del tema natale delineano la personalità l'imprinting di una persona e quindi voi siete delle anime guerriere che devono trovano che il loro fuoco rimanga acceso andando nel mondo ci sono anche dei periodi di recupero di ritorno alle origini di riscoperta delle emozioni ed è come se soprattutto ecco fino a novembre finché marte e leone non tornerà alla ribalta a darvi proprio il fuoco della ribalta e della passione e vi porterà lontano probabilmente anche in un viaggio molto interessante invernale che volevate fare da tempo ecco in questi mesi c'è proprio una riscoperta delle un ritorno a casa una vita domestica sarei vicino ai genitori questo perché perché saturno in pesce nettuno retrogrado sono appunto retrogradi quindi amarcord dalla revisione tutto un sacco di cose nel vostro nel vostro settore della vostra casa solare della famiglia quindi c'è tutto un voler stare un essere attaccati alle origini e anche un far far pace con le memorie c'è una fase introspettiva che solitamente non vi appartiene ma che in alcuni con in occasione di transiti epocali come un ritorno di saturno dopo 30 anni ma anche di nettuno la gente non tutte le persone hanno tutte le non tutte le generazioni e non tutte le persone hanno delle congiunzioni al limo uccelli cioè alla quarta casa alle radici a fondo cielo per dirla per rendere l'idea proprio in italiano non in latino non tutte le generazioni hanno un incontro di saturno karma nettuno memorie ideali mentalità al fondo cielo nella vita considerate che nettuno compie circa 100 c 160 170 anni a fare l'intero giro dello zodiaco e quindi non è detto che si incontri ogni ritorno di saturno nel limo uccelli quindi ogni 30 anni con nello stesso segno in cui saturno sta transitando insomma questo per dirvi in un settore così cardinale del tema natale di una persona quindi memorie bisogno di ritornare alle origini proprio una nostalgie se ci sono delle persone che avete perso se dovete andare probabilmente ci sarà la necessità di recuperare qualcosa di sistemare qualcosa e se non si tratta soltanto di un bisogno interiore ma questioni ereditarie vi spingono comunque a ritornare alle origini a fare dei tuffi del passato e anche come dire a fare ordine nei ricordi scoprire delle cose che non vi erano state dette quindi aggiungere dei puzzle dei tasselli al puzzle beh questo non può non può che fortificare le vostre radici e più le radici di un albero di una persona di una famiglia sono complete di di memorie tutti i membri della famiglia vengono a tutti i membri della famiglia viene dato il loro giusto posto questo è un come dire una sorta di rivitalizzante della persona stessa proprio di rivitalizzante energetico psicofisico della persona stessa e di tutta la di tutta la famiglia di quella persona quindi proprio a livello di astro genealogia le radici sono talmente importanti perché reggono tutto l'albero quindi tutta la vita e da cui dipende anche la realizzazione la forza la linfa vitale con cui una persona si realizza voi potete immaginare che un incontro di nettuno memorie connessione con gli altri ideali nel bene e nel male e saturno car il karma il destino il signore del tempo vi farà sistemare scoprire sapere tante cose e sappiate che più cose sappiamo del nostro passato delle nostre origini del nostro karma della nostra famiglia più ci conosciamo più ci capiamo ci comprendiamo meno ci inganniamo e più diventiamo forti se dovessero venire fuori cose no che esclusi persone che non conoscevate cose di guerra persone perse insomma tutte le storie che in tutte le famiglie e in tutti gli alberi genealogici poi emergono una volta che una persona ci mette ci mette mano portate tutti nel cuore sospendete i giudizi e portate tutti nel cuore perché il modo per fortificarsi non è escludere quello che non ci piace ciò di cui non andiamo fieri ma dare a ciascuno un posto nel nostro cuore e ricordate che se rifiutiamo qualcosa con tutti noi stessi quella cosa diventerà il nostro destino quindi c'è questa comprensione anche energetica alchemica di ciò di cui siamo fatti è sicuramente un mese ripeto introspettivo ma di maggior pace rispetto ai precedenti può essere un come dire un mese anomalo per alcune per alcune cose si tratta di una fase nella vita dobbiamo sperimentare tutto proprio per misurarci con le esperienze ed essere completi essere degli esseri umani completi per voi i ritmi serrati le passioni brucianti colpi di scena gli spostamenti tornano presto e sono dietro l'angolo questo mese di di fine estate inizio autunno è un contemplare le cose dall'interno fatemi sapere come vivete questa dimensione diversa se ci riuscite e quanto vi sentite diversi perché comunque un saturno al limon cieli comunque è un momento di grandissima crescita per tutti io vi mando un grande bacio vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon settembre 2024 cari amici del capricorno cari amici con l'ascendente con la luna in capricorno benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 benvenuti ad un mese interessante in cui cambiano gli equilibri continuano diciamo continuano a modificarsi gli equilibri che rispetto a un cambiamento che probabilmente avete già iniziato a percepire tempo addietro nello specifico saturno il vostro governatore è diventato retrogrado per l'ennesima volta dal 30 giugno e state riprocessando siete ancora in piena fase così di processazione di revisione delle convinzioni non avete ancora finito questo ve lo anticipo diciamo che per fine anno diciamo che per fine novembre quando i pianeti in pesce avranno finito di essere retrogradi voi avrete una visione diversa delle cose state riprocessando sicuramente il passato con saturno retrogrado le memorie soprattutto le convinzioni le convinzioni le comuniche quello che credevate di dover fare fino fino ad adesso il modo in cui vi siete comportati c'è proprio una revisione totale anche per quanto riguarda proprio la parola data la direzione l'orientamento da prendere rispetto al passato ovviamente sto facendo un discorso generale dipende dall'età che avete se siete giovani magari state pensando di cambiare gli studi di partire per un viaggio di cambiare direzione programmi finora magari no messi messi in cantiere se siete delle persone che se avete se avete aperto un negozio se siete dei commercianti possono esserci delle delle modifiche magari potreste voler cambiare indirizzo modo non sapete se andare avanti insomma c'è proprio e poi potrebbe anche riguardare anche una questione diciamo questa revisione questo dover per tornare su vecchie dinamiche su vecchie convinzioni potrebbe riguardare oltre che i vostri orientamenti oltre che i vostri studi oltre che il rapporto con il pubblico la vendita o l'insegnamento potrebbe riguardare il rapporto con i fratelli e con i cugini poi a seconda insomma delle delle varie situazioni della ecco diciamo delle dinamiche familiari questo poi lo sapete voi ma c'è proprio una una revisione anche del modo di rapportarsi e del modo di vivere le relazioni perché nel frattempo mentre saturno già retrogrado dal 30 giugno non finirà prima di novembre in oltrato diciamo di fare questa revisione retrogradazione ecco che arriva marte in cancro opposto al vostro segno a sfidarvi nel settore delle relazioni quindi il pianeta il signore della lotta marte nel settore dei rapporti quindi dei rapporti che voi poi di relazioni che voi vivete in maniera emotiva la bisognosa le con l'attaccamento no cioè è una dimensione è un ambito nel quale voi che siete coriacei che siete impenetrabili che siete molto orgogliosi poi vi rivelate tantissimo no le relazioni il matrimonio voi fate famiglia con la persona con cui sposate ma famiglia vera rivivete col partner proprio il rapporto che avevate forse con uno dei genitori proprio perché il settimo settore della casa solare è nel segno del cancro anche con i soci e come se anche con probabilmente con dei colleghi di lavoro con persone con cui magari inizialmente siete legati da vincoli contrattuali che altre persone altri temi natali altre persone con strutture ecco astrologiche diverse magari hanno un altro tipo di rapporto anzi c'è molta distanza alcuni hanno la diffidenza voi tendete proprio a fare famiglia a vivere tutta a vivere a dimostrare tutta la vostra emotività e anche i vostri bisogni e il vostro attaccamento ecco questo transito di marte che formerà per sei mesi fino ad aprile 2025 un trigono con saturno e con nettuno sta maturando cambiando gli aiuta a sta perché sta per iniziare cambierà e porterà a maturazione a revisione a un nuovo ordine a una nuova gerarchia proprio le relazioni e il modo di anche di vi renderà più maturi quindi meno emotivi meno sognatori meno idealisti si potrebbe dire che ci sia una epica epocale crescita e disillusione di molte figure di uno più figure importanti intorno a voi e una conseguente maturazione come dicevo credo 12 segni fa non capita nella vita di tutte le generazioni tutte le persone a noi sì a noi sì cioè noi che stiamo parlando e che viviamo dal 2011 nettuno stiamo vivendo perché siamo viventi anche adesso l'incontro di saturno con nettuno in un determinato settore ma non capita a tutti nel senso che è raro che nettuno si incontri nello stesso segno di saturno magari in case determinanti perché nettuno conti circa 160 170 anni a fare l'intero giro dello zodiaco e quindi si prima o poi si incontra con un qualche segno con saturno da qualche parte nello zodiaco ma quando una persona vive l'incontro di saturno con nettuno in un determinato settore c'è il risveglio dalle c'è un carmico risveglio dalle illusioni in quanto carmico significa che si interrompe uno schema comportamentale che probabilmente era genero generazionale era proprio insito nel sistema familiare di quella persona e la persona che lo vive e quindi era tramandato si interrompe questa questa illusione e quindi è probabile anche che stiate vivendo insieme anche ad un'altra persona della vostra famiglia una fase di disillusione di presa di coscienza di crescita e di maturazione tutto questo diciamo questo indica il travaglio energetico e quindi anche una nuova presa di consapevolezza anche di come ci si relaziona con le persone di come si parla e quindi proprio un cambiamento di presentazione al mondo alla luce ecco di queste come dire reazioni alchemiche che stanno avvenendo dentro di voi è probabile che ci sia visto questo ritorno al passato l'occasione di andare a recuperare per chi ha il rimpianto per chi ha il desiderio delle situazioni sentimentali lasciate in sospeso questo è con un anno retrogrado del quinto settore c'è questa possibilità o situazioni sentimentali quindi ho persone perse che magari avete solo incontrato insomma persone che non avete sentito di aver vissuto abbastanza o vecchi amori oppure questo può essere di contro parallelamente l'occasione per liberarsi magari ecco definitivamente di un sentimento di un'illusione di una situazione e dare vita ad una nuova situazione sentimentale perché un transito di marte nel settimo settore che è quello delle relazioni con un urano nel settore diciamo dei dell'amore marte che trigono a un saturno insomma indica anche chiusura del paolo recupero o chiusura del passato e un andare avanti ma non da soli ma non da soli e a proposito diciamo di solitudine quel saturno diciamo nettuno retrogrado in terza casa tra le altre cose tra l'orientamento lo studio i fratelli viaggi le comunicazioni il pubblico e tutto mi sta facendo notare anche chi c'era nel momento del bisogno e chi invece era un grande assente e questo proprio a 360 gradi quindi cioè si dice che il capricorno sia cinico lo è a volte per l'ascesa al potere quando ha questo bisogno di imporsi l'ambizione e cinico quando deve vedere chi vuole attacchi sa per fregarlo è cinico e diffidente estremamente estremamente prudente estremamente protettivo non si svela mai meno conosce una persona e meno si svela e ripeto protegge molto le sue posizioni di potere i soldi è molto segreto in questo però nelle relazioni sentimentali quando una persona riesce ad entrare nel suo nucleo personale rivela delle grandi debolezze e soprattutto rivela proprio si attacca e rivela tutto il suo bisogno di di unione di rapporti i rapporti simbiotici e a questa cosa legata all'infanzia di riproporre appunto il rapporto con i genitori con le persone con cui poi si va ad unire quindi c'è una grande motività c'è una grande sensibilità che si rivela proprio nei settori della sfera intima e personale quindi c'è una una grande revisione c'è un grande mettere in ordine tante cose la luna nuova in vergine mercurio in vergine vi stanno aiutando proprio ad avere il quadro della situazione e quando ci sarà il 18 settembre la luna piena in pesci su quel nettuno poi in pesci di cui abbiamo parlato finora di tutta questa illusione senza dirvi della luna piena si inaugurerà quindi a metà mese di settembre il corridoio energetico che andrà dal 18 settembre al 17 ottobre e tutto questo è lì nella fase nella seconda fase di settembre nella prima di di ottobre avrete un quadro ancora più completo diciamo di questa retrogradazione di saturno di quello che dovete fare del passato insomma delle cose da recuperare e della direzione da prendere che sicuramente tiene conto e prevede una certa cernita una certa selezione delle persone appunto perché potreste notare dei dei grandi assenti quindi è una fase sicuramente introspettiva ma è anche una fase che riporta a voi quelle che sono le persone importanti e i momenti importanti della della vostra vita quindi se andate a ripescare un amore o se vi aprite all'amore io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo fatemelo sapere nei commenti la venere di fine mese che entrerà il 23 nel segno dello scorpione metterà ulteriori ulteriore benessere ulteriore carburante ulteriore passione a certe dinamiche sentimentali anche trasgressive quindi io vi auguro buon divertimento vi aspetto nei commenti e vi auguro un buon settembre 2024 cari amici dell'acquario cari amici con l'ascendente acquario con la luna in acquario benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 benvenuti ad un mese in cui plutone il grande trasformatore esce dal vostro segno di vi lascia in pace smette di essere attivo di cercare di trasformare e di buttare luce in parti ombra del vostro della vostra personalità egoica quindi vi vi lascia un attimo riposare torna nel segno del capricorno per due mesi e mezzo fino al 20 novembre circa per l'ultima volta e il segno del capricorno per voi rappresenta l'inconscio quindi ricomincia una parte un po introspettiva comunque tipo di revisione del delle dinamiche del passato legate al potere a quello che avete subito se voi magari vi siete posti male se avete approfittato di qualche situazione quindi è proprio un periodo di di revisione tra l'altro stimolato particolarmente dal fatto che questo plutone forma trigono con urano che uno dei vostri governatori un sestile con saturno che un altro dei vostri governatori e con e fa forma un'opposizione con marte quindi si vanno a stimolare varie aree e si vanno a mettere in discussione altre sembra che questo marte in cancro che farà opposto a plutone che farà un transito straordinario per circa sei mesi quindi fino alla fine di aprile 2024 tranne una un periodo in leone tra novembre e gennaio questo lungo transito di marte in acquario va a movimentare il vostro quotidiano movimentare significa che iniziano nuove cose potreste ci sono dei cambiamenti la vostra quotidianità non sarà sicuramente piatta probabilmente vi sposterete magari farete su e giù da qualche parte o iniziate un nuovo lavoro una nuova situazione oppure gli ospiti a casa aumentano magari dovete ospitare qualcuno magari prendete un animale ricordo che la sesta casa solare è anche quella degli animali domestici no quindi comunque ci sarà un movimento nella nella vostra vita e questo movimento queste questa attività intensa vi porterà anche a fare come dire delle riflessioni per quanto formando un trigono con saturno e nettuno farete anche una sorta di riflessioni su quelle che sono le vostre abitudini su tutto quello che lo stile di vita sulle spese da investire perché io adesso ho fatto l'esempio dell'anima e domestico ma veramente si potrebbe allargare la famiglia in qualche modo e quindi potrebbero esserci delle spese magari qualcun figlio torna torna un ex oppure un ex una persona di un coniuge un compagno diventa ex e quindi voi rimanete da soli a dover fronteggiare tutto insomma qualcosa che entra ad alterare a scombinare a movimentare anche ad arricchire la vostra quotidianità mette anche in discussione le dinamiche delle uscite delle entrate in realtà siccome marte trigono a saturno sembra più una giunta sembra come se le finanze aumentano a fronte di un impegno maggiore quindi in qualche modo dove c'è impegno c'è anche crescita se vi rifiutate in qualche modo non riuscite a sostenere l'impegno allora quel saturno in pesci e quel nettuno in pesci vi dovranno vi porteranno a fare una presa di coscienza e a dover rinunciare a qualcosa è come se c'è un gioco forza di energie per cui dovete decidere voi sa voi decidere prendervi la responsabilità di che di quale di cosa nutrirvi di quali debbano essere e quante debbano essere le le vostre entrate le cose la vostra fonte o le vostre fonti di di sostentamento è come se doveste impegnarvi per avere una come dire una quantità sufficiente di di fonte di introito c'è proprio un lavoro di più guadagno di più lavoro di meno guadagno di meno insomma e e tutto questo e tutto questo quadro tutta questa tutto questo reset tutta questa riflessione riguarda anche le questioni familiari e immobiliari che si stanno verificando nella vostra vita quindi probabilmente o dovete vendere un immobile ed è da qui che il movimento di marte in cancro che vi fa avere più soldi oppure ce n'è necessità per acquistarlo per uno da qui forse il fatto di dover lavorare di più oppure questo urano retrogrado in quarta casa magari porta un figlio che deve sposarsi o siete voi che dovete sposarvi insomma ci sono proprio dei dei conti da fare di dei programmi degli investimenti insomma è un periodo molto molto impegnativo che vi dà la possibilità di sistemare anche delle cose del passato vi dà la possibilità di realizzare dei progetti che avresti tanto voluto fare in passato dei sogni che avevate proprio un pallino di cose da fare e a fine mese quando venere entrerà in scorpione e andrà a formare degli ulteriori trigoni con questa con questo marte e per tutta e con questo saturno e nettuno beh sicuramente ci sarà il coronamento di un desiderio di qualcosa che è legato all'amore e ai sentimenti avete talmente un giro di pianeti nel vostro caso un giro di pianeti che si sistemano e si sistemano bene ma aiutati da questo plutone che vi sta portando alla trasformazione che apre un ventaglio talmente vasto di soluzioni che non riesco a fare un degli esempi specifici perché ne ho sentite veramente tantissime mi avete scritto e anche nella vita vera vedo dei cambiamenti continui e davvero sono 360 gradi ma questo perché perché la vostra personalità i rappresentanti dell'acquario degli ascendenti acquario o della luna in acquario hanno una personalità molto ricca hanno due pianeti governatori uno che è la regola e un altro che la rivoluzione saturno ed urano quindi a seconda del karma personale a seconda dei gap del tema natale della persona c'è chi costruisce c'è chi arricchisce c'è chi distrugge c'è chi rivoluziona c'è chi cambia il mondo per sé per gli altri insomma perché poi quando si incontra un acquario sicuramente le cose non rimangono mai uguali c'è sempre un valore aggiunto c'è sempre una sfida c'è sempre una ventata di novità di aperture c'è sempre un'energia di movimento che non lascia mai il tempo che prova quindi questo vostro viaggio nell'inconscio e nella capacità dell'inconscio nel segno del capricorno che vi rende molto forti rivoluzionari ma molto forti molto astuti molto lungimiranti e anche capaci di prendervi sulle spalle delle grandi responsabilità perché avendo il segno precedente al vostro quindi avendo il capricorno e saturno nel segno dell'inconscio siete persone che riescono a fare degli sforzi a portarli avanti con determinazione e proprio con spalle larghe per un lungo periodo cioè l'acquario è un segno molto forte molto resistente molto tosto molto sveglio poco incline a farsi infinocchiare proprio perché è lungimirante consapevole del proprio potere e quindi non si fa come dire disorientare dalle sirene ed a proposito di sirene il consiglio delle stelle proprio perché stiamo parlando di finanze di risorse di sogni e di soldi e proprio perché parliamo di pianeti nel segno dei pesci il consiglio del quindi potrebbero esserci delle illusioni delle sirene qualcuno che vi ha promesso qualcosa che non potrebbe non mantenere il consiglio delle stelle se potete attendere è di aspettare la luna piena in pesci del 18 settembre proprio nel settore soldi di attendere che si inauguri quel corridoio energetico che va dal 18 settembre alla metà di ottobre insomma il 17 ottobre perché la luna piena su saturno il nettuno retrogradi in pesci vi darà modo di come dire di rivelare se ci sono delle cose poco chiare se ci sono delle promesse mantenute e voi non vi preoccupate perché con il trigono di marte con il sestile di urano risolverete tutto e troverete l'aiuto quello che tutto quello che vi serve però prima di come dire garantire firmare decidere il consiglio è di attendere la luna piena in pesci e di vedere che l'effetto che fa perché potrebbe essere molto molto interessante e cambiare poi di conseguenza i piani e dare una direzione diversa a tutti quelli che sono i vostri progetti e il vostro futuro altrimenti quando tornerà plutone che deve brucia deve bruciare in acquario le parti in ombra dell'ego potrebbe già iniziare a dare qualche problema quindi godetevi questi bei transiti il periodo molto interessante vi auguro un buon viaggio dentro di voi e dentro il vostro inconscio per risistemare le dinamiche vittima carnefice l'abuso di potere i condizionamenti che tutti ci portiamo nella vita e di cancellare in un sol colpo io vi mando un grande bacio vi auguro un buon settembre 2024 e vi aspetto nei commenti cari amici dei pesci cari amici con l'ascendente pesce con la luna in pesci benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva di settembre 2024 il mese di settembre da sempre per il segno dei pesci è il mese della tombra siamo il sole sta transitando nel segno opposto al vostro e solitamente per tutti i segni i quei 30 giorni in cui il sole transita nella parte opposta del suo sole si rivelano proprio i lati ombra della personalità e lati ombra sono sia quelle cose di voi che non riuscite a controllare sia anche le paure più grandi le sfide le provocazioni proprio emerge il lato ombra di una persona il segreto poi per affrontare questi lati ombra è fermarsi a guardarlo se invece noi facciamo sempre come dire un fuggiamo via cosa che voi siete bravissimi a fare se voi proprio sgusciate via ve la date in un attimo magari ecco quell'ombra vi rincorre sempre e cosa interessante di questo di questo mese dell'ombra è che c'è un bel marte nel segno del cancro dal dal 4 settembre con un transito straordinario che tra l'altro vi sosterrà e vi accompagnerà fino ad aprile 2024 tranne novembre dicembre nel se nel leone una capatina nel leone quindi c'è questa cosa interessante di questo marte in cancro che in realtà vi conferisce la forza il coraggio l'appoggio il sostegno magari di qualcuno o semplicemente le energie magari anche il frutto il risultato di un lavoro interiore per a cui siete probabilmente stati costretti causa saturno che appesantisce tanto l'umore quindi a volte fa dire non ce la faccio devo sistemare delle cose devo farmi aiutare comunque sia in qualche modo c'è un fronteggiare l'energia le paure la tombra in maniera completamente diversa e quindi ci saranno anche dei risultati diversi quindi a quest'anno nonostante sicuramente le pesantezze di saturno e nettuno retrogradi nel vostro segno quindi una rivisitazione o rivedere le cose passate sistemare cose del passato che vi rincorrono dover fare i conti dover mettere ordine perché poi il lato ombre in vergine c'era una nuova in vergine dal 9 avrete anche mercurio in opposizione quindi ci sarà un dover di come dire dover essere responsabili un dover prendere le proprie responsabilità un non poter fuggire però questa volta riuscirete a farlo un rispondere alle domande che vi vengono fatte un essere puntuali se non lo siete ripeto responsabili affidabili mantenere la parola data mercurio opposto ai valori in pesci accettare delle critiche dover dare delle risposte comunque definire quindi questa volta non si può scappare e però questa volta riuscirete tranquillamente abbastanza tranquillamente a come dire a dare il corrispettivo quindi a affronteggiare la situazione molto interessante tra l'altro questo marte in cancro perché oltre a portare sei mesi di passione di vitalità di energia costruttiva e positiva allo stato puro quindi possiamo anche aspettarci delle passioni non solo sentimentali di questo adesso ci parliamo lungamente ma anche delle passioni vostre degli hobby che diventano lavori delle passioni personali che danno soddisfazioni se siete degli sportivi o se avete delle competizioni delle gare dei concorsi ovviamente con questo marte in cancro trigono a saturno trigono a nettuno il sestile urano proprio nei mesi questo ve lo spoilero nei mesi le possibilità di avere successo di vincere di avere vittorie gloria soddisfazioni è molto alto oltre alle soddisfazioni alle vittorie alla vitalità alle passioni questo marte in cancro sembra portare anche l'amore dato che saturno e nettuno e anche urano sono retrogradi potrebbe tornare un amore dal passato se invece oppure voi potreste andarvi a ripescare qualcuno potreste rivalutare un vecchio corteggiatore una persona che non avete vissuto abbastanza qualcuno con il quale vi eravate incontrati poi insomma per forza di cose per per situazioni per impossibilità non vi eravate vissuti appieno potrebbe ci sono altre probabilità che riemerga qualcuno dal passato che magari prima era era impegnato adesso è libero si creano delle circostanze per cui l'amore potrebbe arrivare dal passato e datevi il tempo datevi un paio di mesi questa vela spoiler però potrebbero esserci i presupposti per qualcosa di duraturo perché margine formerà un trigono con saturno gli step da superare se come dire gli incontri ritorni dovessero farsi appetitosi già nella prima parte di settembre sono la luna piena nel segno dei pesci del 18 settembre perché si farà piena sul nettuno retrogrado e inaugurerà un corridoio energetico che dura circa un mese che traghetterà queste energie nettoniani di favola di sogno di illusioni di aspirazioni di sentimenti di ideali ma anche di idealizzazioni fino a metà mese di ottobre dato che c'è anche saturno nel segno dei pesci avrete come dire modo avrete modo durante questo corridoio energetico di vedere se sono solo chiacchiere sono solo sogni o se c'è qualcosa di concreto quindi cercare di non buttare il cuore subito nella storia e cercare per quanto insomma una piena in pesci dia tante illusioni dia tanti tanta voglia di sognare cercare di mantenere a freno l'emotività soprattutto la testa che parte poi fai film per non doverli per non dover poi rimanere delusi almeno per un mesetto sarebbe il consiglio migliore se proprio riuscite ad essere chirurgici se proprio nel vostro tema natale avete dei valori magari in capricorno in acquario se riuscite ad essere lucidi in queste cose siate guardinghi fino a fino a fine anno perché qui ci vuole un almeno fino a novembre qui ci vuole un saturno che torna diretto e che mi fa fare conti con il futuro e non soltanto con il passato ma davvero c'è di che di che meravigliarsi altro movimento allora innanzitutto anche per voi dimenticavo di dirvi che il peggio è passato perché fine luglio e agosto sono stati come dire molto molto movimentati ma anche molto tesi e molto dissonanti per via di marte in gemelli che già duale separatista e come dire contraddittorio di per sé che si è giunto a giove e quindi questa contraddittoria queste tensioni sono sicuramente lievitate e amplificate il tutto quadrato a saturno quindi voi non riuscivate a tenere la quadra è questo periodo di tensione quantomeno in casa in famiglia quantomeno legato agli immobili non non torna almeno non per 12 anni questo marte in cancro alleggerirà anche le tensioni per quanto riguarda la famiglia e il domicilio anche se giove in gemelli resta fino a giugno 2025 quindi a sollevare delle ipotesi delle indecisioni avrete la pace completa della situazione e vi sarete sta avete trovato la vostra dimora la vostra dimensione questo io devo dirvelo solo a giugno 2025 siccome questo è il bello dell'astrologia che ci dice quando inizia e quando finisce una cosa che ci dice fin quando non illuderci fin quando continuare a lavorare o quando iniziare ad aspettarci dei risultati sappiate che a più riprese questo ma questo marte in cancro fino a fine aprile lavorerà affinché si creino nella vostra vita i presupposti per per fare progetti per avere stabilità e per andare nel futuro con con delle radici con un radicamento a voi stessi e una solidità un'energia che vi darà la stabilità vi darà la forza di portare avanti i vostri sogni e i vostri e i vostri progetti il settore nel quale c'è da mettere ordine oltre che dentro di voi nelle vostre emozioni nelle vostre illusioni questo mese comunque è quello delle relazioni e dei contratti bisogna essere chiari bisogna cercare di mantenere sempre in asse la reciprocità perché l'asse pesci vergine cerca tutta la vita una sorta di equilibrio tra ragione sentimento tra presenza e assenza tra dare e avere non è proprio l'asse come dire marte scorpione ma esserci non esserci dare attenzione prendere attenzione rientra nel nella presenza e nel dare avere energia quindi cercate di mantenere sempre rapporti bilanciati cercate di non dare troppo e di non o di non prendere troppo vi accorre quando non riuscite ad equilibrarvi perché effettivamente con un transito di nettuno in corso non si è proprio lucidi e questa cosa va avanti siete siete sfiancati se si può dire da questo transito di nettuno dal 2011 perché nettuno è nel suo domicilio il segno dei pesci però effettivamente essendo nel regno della materia voi dovreste avere di continuo qualcuno che vi riporta anche nel mentale anche nel concreto ok quindi a volte veramente avete evaporate non sapete non sapete più dove iniziata una cosa e dove finita cioè quali sono a volte i contorni quindi ve ne accorgete dalla realtà perché la realtà è una risposta all'energia che immettiamo quindi se qualcosa si sbilancia se qualcuno o fugge o ci sta troppo addosso è proprio perché in qualche modo avete emanato o troppo troppo poco quella persona insomma cerca di avere quindi cercate di definire i contorni e cercate di di mantenere una certa reciprocità non fate alla fine tutto un conto cercate di mantenerla nel quotidiano la reciprocità se io prendo entro la settimana entro 15 giorni devo dare o comunque mi devo dare la regola di non riprendere di non chiedere prima che io non abbia dato qualcosa all'altra persona e se la persona viene sempre a chiedere mettere un freno e cercare di bilanciare questo è un modo per mantenere i rapporti sani e vitali perché quando c'è uno sbilanciamento dell'energia in eccesso o in difetto i rapporti inevitabilmente si si sfaldano quindi questo mese c'è questo lavorino di riequilibratura ma con marte in cancro avrete qualcuno che vi aiuta e vi sostiene potrebbe essere perché no proprio l'amore o una nuova passione che vi porterà lontano quindi io vi auguro un bellissimo settembre 2024 vi aspetto nei commenti e vi do un grandissimo bacio e con il segno dei pesci siamo arrivati alla fine di questo lungo video di oroscopo mensile vi ringrazio per essere stati con me ci vedremo presto per il nuovo video su saturno retrogrado e su marte in cancro per sei mesi e quindi io vi ringrazio ancora e vi mando un grande bacio e vi auguro un buon settembre 2024